Sono Bianca Maria e vi do il benvenuto dalla Bellissima Fermo in questa serata organizzata da Liberi Oltre le Illusioni in collaborazione con Italia, Stato di Diritto, che sono qui stasera per dialogare con noi, con voi, sui temi del posto della guerra e il costo della libertà, il nuovo libro di Vittorio Emanuele Parsi. E' consuetudine in questi casi fare dei ringraziamenti. E allora consentitemi come prima cosa di ringraziare voi che siete qui presenti in sala. Con un caloroso applauso vi ringrazio perché la sala è piena e la cosa mi fa... La cosa mi fa molto piacere, però ringrazio anche le persone che ci stanno ascoltando in diretta dai canali di Liberi Oltre le Illusioni, di Italia, Stato di Diritto e anche Radio Radicale. Il motivo per cui voglio ringraziarvi è perché essere qui stasera testimonia, secondo me, una grande apertura verso un dialogo su temi che non sono certamente temi facili. Però siamo qui questa sera a dibatterne con persone la cui professionalità e competenza ci assicura davvero la possibilità di comprendere questi temi e soprattutto persone che adottano un criterio, un metodo rigoroso di analisi, di valutazione dei dati. Quindi così vi ho anche già delineato quelle che sono le caratteristiche dei nostri ospiti di questa sera. Prima di iniziare e di presentarveli ringrazio anche la libreria Mondadori di Fermo che è qui in sala, che ci assiste e quindi da a chiunque abbia ancora la necessità di acquistare il libro, i libri di cui parleremo questa sera, per proseguire un approfondimento anche oltre la serata. Comincio le presentazioni rompendo il ghiaccio con un amico, l'avvocato Guido Camera, avvocato penalista, presidente di Italia Stato di Diritto, una mirabile associazione che beneficia della collaborazione di moltissimi avvocati, esperti di diritto, professori universitari, che si è posta come obiettivo la divulgazione anche dei temi tecnici di diritto con una modalità un po' più semplice. E' proprio di questi giorni Guido la pubblicazione di una serie di interventi per spiegare la riforma a Cartabia, così come in passato Italia Stato di Diritto lo ha fatto sui temi del referendum. Voglio ringraziare Guido anche perché ha rivolto un bellissimo augurio per questo 2023, un augurio che io estendo a tutti voi, e cioè che lo Stato di Diritto ci aiuti a vincere le prevaricazioni e i conflitti. Il secondo ospite di questa serata è Costantino De Blasi, in realtà lui è il padrone di casa perché la serata è di Liberi Oltre le Illusioni, Costantino è un risk manager, consulente, impresa, esperto di diritto pubblico, insieme a molte altre persone estremamente importanti, vorrei citare il professor Michele Boldrin, economista, che forse ci sta seguendo anche lui dalla Washington University di St. Louis, altre persone come Carlo Stagnaro, che vorrei citare perché oltre ad essere direttore dei studi ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, è anche una persona estremamente competente in materia di economia dell'energia, un tema che è stato spesso associato al conflitto in Ucraina. Insieme a loro tantissime altre persone che quotidianamente si pongono come obiettivo quello di cercare di contrastare il declino culturale di questo paese e lo fanno con immensa generosità, dedicando tantissimo tempo, quindi anche da parte mia un applauso in questa occasione. L'ospite d'onore di questa serata è il professor Vittorio Emanuele Parsi, che immagino voi tutti conosciate e il cui curriculum è stato ormai decantato in tutte le lingue. Io però vorrei ringraziare Vittorio perché è sceso in campo, davvero rugbysta, dal 24 di febbraio ad oggi, per enunciare un principio che è davvero importante, lo ha fatto con una chiarezza che lo ha reso davvero famoso e soprattutto apprezzato, e cioè che è solo nella libertà che possiamo trovare il vero concetto di pace. Vittorio Emanuele Parsi. Questa serata ha ottenuto il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e del Comune di Fermo e abbiamo qui il sindaco, l'Avvocato Paolo Calcinaro, che ci dà un saluto. Grazie Bianca Maria, grazie anche alla tua determinazione che hai messo in campo per questa serata. Oggi leggere la parola guerra per noi ha un significato piuttosto evocativo. perché parlo da ultra quarantenne, non con memorie vissute così ampie. Però per la prima volta, per tanti di noi, la parola guerra ha un significato specifico e ha un riflesso nella vita quotidiana. Per anni abbiamo visto accadimenti nel nostro pianeta, per cui quello che ci colpiva erano quelle edizioni straordinarie con quei puntini di luce dei bombardamenti notturni in paesi lontani, pur avendo a volte dei convolgimenti italiani, magari dei volti di vittime o di prigionieri, se ricordo anche la prima guerra nel Golfo. Ma per la prima volta, lo assicuro, gli effetti di una guerra li possiamo anche capire noi stessi. pensiamo al caro energia, che ci affligge quotidianamente, e lo dico anche come amministrazione comunale, dà anche una problematica. Possiamo vedere, perché così è, persone che già ai primi giorni sono venuti qui, ucraini, nei nostri territori, e vedere la cosa che è molto forte, è stata molto forte, vi assicuro, è vedere donne, bambini, forse anziani, nessun uomo. Perché? Perché sono rimasti lì. Perché potevano andare a combattere, probabilmente lo stanno facendo. Quindi declinare il concetto di guerra oggi è particolarmente importante per noi, proprio perché la andiamo a toccare. Quindi io vi ringrazio per questo tema, per questo approfondimento, o quest'oggi, sono contento, come già mi accennavi, di vedere l'auditorium gremito, e quindi buon proseguimento di serata, e grazie ai nostri relatori per essere qui presenti in città, perché è sicuramente un vanto per la nostra ferma. Grazie Sindaco. E in conclusione, accettato di essere qui, e gliene sono infinitamente grata. Un grandissimo giornalista, persona intelligente, stravagante, hanno detto molte cose di lui, e io posso dire però che è anche una persona estremamente generosa. Grazie. Grazie a te, e vi lascio a Oscar Donizio. Grazie a voi. In realtà non ho nessun titolo per stare qua, sono semplicemente un appassionato lettore da, non lo dico da quanto, perché lui in realtà sembra molto più giovane di quanto non sia il professor Passi, ma in realtà da sempre, da che l'ho incrociato, e aggiungo anche due lobby, mie personali, che non dico qua, le dico sempre in pubblico, perché io penso che le persone qui presenti per dibattere insieme al professor Passi, che lasciamo poi concludere alla fine, prima delle vostre domande, abbiano dei meriti straordinari, al di là delle loro professioni, che però già dicono molto, perché in un paese come il nostro, per me che appartengo a un'esigua sconfitta, e nel mio caso anche sconfitta meritatamente, solo a tutto l'individuale parlo, minoranza liberale, avere professionisti del diritto penale, come l'avvocato Guido, che sta qua, è molto prezioso, visto la piega che il nostro ordinamento ha preso nei decenni, e che rende molto complicato rimetterci in mano, per chi come me ha in testa che il fondamento dell'evoluzione degli ordinamenti giuridici, stia da che esiste lo Stato moderno, è una storia lunga, che nasce prima del rinascimento, con strepitose figure di giuristi, che mettono le basi, perché insomma nella nostra modernità occidentale, gli ordinamenti evolvono, ma sulla base di rappresentare tutele nei confronti del soggetto più debole, e chi è il soggetto più debole? È il cittadino, non lo Stato, è tutto capovolto nei decenni ultimi, nel senso che l'ordinamento giuridico esiste, perché lo Stato è tornato, anche in democrazia, a ritenersi depositario di un'etica superiore, e l'ordinamento serve a garantire allo Stato gli strumenti per intervenire nei diritti fondamentali del cittadino, perché lo Stato prevale, la nostra Corte di Cassazione offre da decenni una panoplia di sentenze ispirate a questo, in tutti i campi, il diritto tributario, il diritto penale, il diritto civile, quindi quello che fa, vedo con la sua associazione, interesse del diritto, è molto meritorio per me, e vedremo perché è meritorio anche sul tema, di cui parliamo oggi, di Costantino ho poco da dire, già che un risk manager, che è una professione che in Italia dovrebbe essere considerata fondamentale, non solo per la vita privata delle imprese, ma per ogni valutazione ex ante, del profluvio di interventi normativi, regolatori del nostro paese, e che manca, la dice tutta, perché noi non facciamo risk assessment, la valutazione ex ante, di qualunque tipo di misura pubblica italiana, gli effetti li vedete, ecco non so come dire, quindi che lui abbia sentito, l'impulso nella vita, di dar vita a cose come quelle di dieci anni fa, purtroppo fallite per colpa mia, e in questi due anni, con Michele Boldriss, con tanti altri, ha una delle più strepitose iniziative di libertà, e soprattutto precisione dell'informazione, database, questo è il punto fondamentale, perché il debunking si fa sui dati, non sulle opinioni, sui dati, i dati che nell'informazione, vengono ignorati, travisati, non li sanno leggere, ecco, è questa cosa qui, ed è una palestra civile, perché i dati prima di tutto, le opinioni, dopo, e quindi, vedete che è gente, ma perché siamo qui oggi? Siamo qui per invogliarvi, se ancora non l'avete fatto, ma comunque non uscirete di qui, se non prenderete entrambi, che trovate alla fine, se non li avete già letti e comprati, e dovete comprare e leggere questi, non uno, quello recente, di Dottor Emanuele Parsi, il posto della guerra e il costo della libertà, ma anche il precedente, come i suoi studenti, perché questi sono i libri di testo, se non sbaglio, che erano assegnati agli studenti, il professor Parsi, perché qui ci sono le premesse per capire quando e perché è nato l'ordinamento di diritto internazionale, di stampo liberale, alla fine, no, prima che finisse la seconda guerra mondiale, per poi decollare, evolversi, qui ci sono ragionamenti, nel tempo come si è evoluto quell'ordinamento, e come anche però poi sono stati commessi gravi errori nel campo occidentale, qui nel primo è rappresentato, che è Titanic ovviamente, naufragio, cambio di rotto, perdone liberale, per ordine liberale, è rappresentata la sfida che viene del jihadismo, quello che sono state le guerre in Medio Oriente, su cui abbiamo, l'Occidente ha perso molta credibilità, purtroppo, epilogo ultimo, il ritiro dall'Afghanistan due stati fa, e li abbiamo lasciati come li abbiamo lasciati, le donne e gli afghani, purtroppo, e che ci spingono all'indifferenza oggi, di fronte all'eroica dimostrazione quotidiana di centinaia di migliaia di giovani e donne iraniane, perché ci voltiamo dall'altra parte, ed è una cosa strepitosa, perché una rivolta dal basso in nome di Donna Libertà non è una primavera araba di parti politiche, e anche nell'analisi delle primavere arabe comunque l'Occidente sbagliò, e così via. Questo c'è nel primo libro. Il secondo è la risposta di un cambio di passo, perché l'epoca della convergenza è finita e si apre una grande era della divergenza. I segni c'erano tutti. Putin ha iniziato a dirci cosa pensa dell'Occidente, delle libertà democratiche, della fine, del declino di quel modello, da molti anni. Ha iniziato a dirci nel 2005. Molte volte è intervenuto, ogni volta assaggiando qual era la soglia oltre la quale poteva spingersi, perché se andate a vedere, Giorgio, se ci stiamo parlando di 15 anni fa, fino poi ad arrivare alla Crimea, al Donbass e così via, e noi non abbiamo voluto capire. E tutto questo oggi rappresenta una novità che cambia radicalmente la risposta, se crediamo in quell'ordine internazionale, fondata sulla libertà, e che ha un difetto però, le sue risposte valgono solo tra i paesi che vi aderiscono, perché si rivelano impotenti di fronte a chi ne sta fuori, come Putin, è un problema che iniziamo ad affrontare nelle sue diverse questioni. All'Avvocato Camera, ovviamente, credo, chiedo, oltre a tutto ciò a cui la lettura del libro di Vittorio Emanuele ha spinto di darci qualche considerazione su un tema che, nella mia esperienza, facendo informazione, quasi nessuno ha ben presente, perché è un tema complesso. Si potrebbe pensare che noi viviamo in un mondo in cui le guerre di aggressione, in cui si varcano i confini di paesi sovrani e indipendenti, in cui si praticano sistemi di distruzione di massa delle infrastrutture, in cui si deportano i civili e i bambini, in cui si torturano i prigionieri civili, siano bandite da un diritto internazionale e quindi ci sia lo strumento, no? Per poi portarlo alla sbarra. Ma non è così. Anche se noi crediamo, se non nella Corte Penale Internazionale, quella riguarda tecnicamente solo chi l'ha sottoscritto, gli accordi, però crediamo nella possibilità, come è avvenuto nei decenni alle nostre spalle, di corti penali ad hoc per esaminare queste questioni e condannarne i responsabili. Però il tema è complesso. Il sistema del diritto internazionale, di questo ordinamento liberale, sembra la sbarra, caro Guido. E quindi, a un'opinione pubblica, che si vede bombardata di messaggi, ma che ci interessa della guerra, ma perché il signor Dreschi deve insistere, ma mettetevi d'accordo, ma che ti interessa mai del Donbass, e tutto quello che ti hanno invaso, rassegnati, la questione della gravità, delle atrocità commesse, sembra scomparire, perché si dice, beh, la colpa è di chi resiste, basterebbe arrendersi, no? Qual è il pezzo? Perché resiste? Pensi di poter vincere? No, e allora, perché dargli una mano a resistere? Ecco, però qui, il diritto alla libertà, che non ha una sede per vedersi poi confermato e per poter giudicare chi lo viola, pone un quesito a cui, che risposte dai? Eh sì. Grazie, anch'io, scusate se inizio da un, prima di tutto, un ringraziamento a chi ha organizzato, a chi ha consentito, a Italia ha stato il diritto di essere qua. Quindi, Costantino, grazie, grazie all'amministrazione comunale e all'ordine degli avvocati per avere patrocinato questa iniziativa e complimenti all'autore del libro, dei libri, perché, devo dire, ha inquadrato con una capacità di andare a toccare tutti i punti scoperti e con estrema anche dote narrativa di un problema estremamente complesso e che difficilmente può essere approcciato in modo semplicistico. Poi è ovvio che se andiamo nel merito della domanda che mi hai fatto è una questione molto complessa. Allora, c'è un passaggio del libro che credo sia opportuno richiamare per provare a dare un piccolo contributo che è questo. Se una cosa l'aggressione russa in Ucraina ci insegna è che le regole che hanno consentito di bandire la guerra dall'Europa funzionano tra le democrazie e basta. È ovvio che il sistema di giustizia che è nelle nostre corde culturali nel bene e nel male poi magari se c'è tempo torniamo anche sui temi che hai sollevato tu. approccio macro al tema sicuramente all'interno dello spazio giuridico europeo quindi dell'Europa almeno nel senso dei paesi che effettivamente hanno deciso di appartenere ad una comunità giuridica economica e culturale come quella in cui viviamo sicuramente hanno possono avere delle differenze ma hanno anche dei forti fattori che le accomunano e che sono la caratteristica di un ordinamento più o meno liberale fondato sui principi dello Stato di diritto o meglio sullo rule of law visto che parliamo di diritto internazionale e che se li vogliamo realmente rispettare comportano che in taluni casi sia difficile trovare delle soluzioni per trascinare di fronte a un giudice un qualcuno che ha compiuto un crimine o un qualunque crimine basta pensare che uno dei cardini dell'ordinamento penale liberale è quello il principio di vieto di retroattività della norma di sfavore e questo sul crimine di invasione che è uno dei cardini essenziali per poter trovare delle forme di giustizia che prevengano che comunque sanzionano gli atti di guerra illeciti perché anche qua c'è un tema che parte qual è l'atto di guerra lecito la guerra difensiva fino a che punto si può spingere la liceità di un atto di guerra beh questo è sicuramente uno dei temi queste tre righe di un insieme di riflessioni densi è sicuramente già evidenzia un problema come possiamo individuare delle regole giudiziarie comune quando in un'epoca fondata su pochissimi stati che tendono provano con una sorta di tensione ad avvicinarsi ad una concretizzazione dei valori liberali molti dei quali invece pensano che le forme autocratiche che il disinteresse per i diritti minimi all'interno dei propri confini non siano un valore da porre a fondamento allora come possiamo trovare delle forme di equilibrio politico che stanno alla base poi della regolamentazione condivisa cioè qualcuno che non solo dice ok siamo d'accordo con queste regole ma andiamo al passaggio in più vogliamo farle rispettare è uno dei problemi più complessi e che si è posto con tutta evidenza nel tentativo della corte penale internazionale di avviare delle inchieste e portare a giudizio dei fatti che almeno dal 2008 perché l'inchiesta della corte della procura presso la corte penale internazionale del 2008 sui fatti della Georgia giaceva fino a febbraio di quest'anno ancora lì noi come Italia Stato di Dritto abbiamo fatto a marzo un esposto al procuratore Cann della corte penale internazionale che potete leggere sul nostro sito e beh questo è uno dei primi grandi problemi cioè come si può spingere il maggior numero possibile di paesi a livello mondiale dunque convincere anche paesi che non hanno i nostri stessi valori paesi che calpestano bellamente i diritti minimi a soggiacere a delle regole internazionali che limitano il sovrano ma non il sovrano come lo conosciamo noi e come possiamo criticarlo da italiano ma il sovrano nel sonso feroce del termine il sovrano assoluto questo è il primo grande tema che però diciamo l'autore affronta e sul quale la tensione che emerge da tutto questo libro cerca di andare a proprio a convincere il lettore credo almeno io così l'ho interpretato e perdonami se non ho ben colto il tuo messaggio dell'importanza di sforzarsi almeno per capire il valore di questo aspetto qua allora la corte penale internazionale nata nel 1998 a Roma quindi abbiamo noi come italiani un legame particolare ed è stata una grande conquista perché si è cercato anche di aggirare la critica che si può fare ai tribunali speciali io non sono un fan dei tribunali speciali io vi dico anche che sono contrario all'idea di istituire con tutte le difficoltà di portare a processo Putin e altri soggetti anche per invasione proprio perché c'è il divieto di applicazione retroattiva di un crimine che per certi versi non li vindica a livello di principio perché la grande sfida è riuscire a sanzionare i crimini rispettando i nostri valori le nostre regole quindi il tribunale speciale o come tale la giurisdizione speciale non mi piace perché è un qualcosa che viene dopo il fatto e quindi vi è meno quel principio fondamentale di rapporto anche temporale tra regola e comando che è la base dell'ordinamento liberale in ogni caso nasce la corte penale internazionale proprio per cercare di evitare che dopo ogni conflitto quando in realtà sotto il profilo politico sociale probabilmente la problematica si è già risolta ci si trovi a fare dei processi dove venga meno il principio anche del giudice naturale che è alla base dell'ordinamento liberale cioè io prima del fatto devo sapere che è il mio giudice non si può istituire una giurisdizione speciale in virtù di alcuni criteri che io non conosco prima di commettere il fatto purtroppo questo per certi versi è il limite ed è la forza del pensiero giuridico degli stati liberali che vale anche per il caino di turno e questo è uno dei principi che sta alla base della nascita anche della corte penale internazionale e 1998 un grande successo difficoltà enormi difficoltà enormi perché rendiamoci conto che cosa vuol dire esercitare una giurisdizione mondiale per fatti gravissimi il che vuol dire portare a processo tendenzialmente dei leader politici per degli atti criminali ma di matrice politica e da un punto di vista formale spesso ancorati di tutti i crismi legali perché anche un atto legale se trova la fonte normativa in una norma completamente diversa pensiamo alla pena di norme pena di morte la pena di morte per me è un atto criminale ma in uno stato che la prevede come sanzione legittima è un atto di giustizia e allora capite la difficoltà ma poi c'è tutto l'aspetto processuale c'è tutto l'aspetto processuale perché se noi riteniamo che questa giustizia penale mondiale debba essere esercitata all'interno delle regole dello stato di diritto bisogna che ci siano delle formalità anche nel raccolto delle prove bisogna che ci siano delle regole di giurizio ancorate al principio di valutazione tipico dell'ordinamento liberale cioè il ragionevole dubbio non possiamo esigere la responsabilità oggettiva e voi vi rendete conto come ha fatto il procuratore can di provare a raccogliere delle prove in periodo iniziale di un conflitto bellico la difficoltà c'è la ritrosia di molti stati importanti ad accettare le regole di un giudice come questo genere è ovvio che da un punto di vista utopico se ci fosse realmente una giustizia globale in cui tutti si riconoscono sarebbe una forma fortissima di prevenzione dei conflitti è ovvio che è una sfida estremamente complessa e lo dimostrano i dati cioè insomma su non solo su l'ossezia non solo su la georgia non solo su aeromaidan non solo su il donbass mi risulta ma correggetemi se sbaglio che non è che la corte per la procura fosse rimasta ferma è rimasta ferma e ha fatto un referee preliminare a fine del 2020 e poi è dovuta scoppiare la guerra perché ci fosse una risoluzione a livello di molti paesi tra cui l'Italia perché si potesse passare allo step processuale la corte a una sorta di pre-inchiesta preliminare per passare all'inchiesta formale non è così semplice poi questo dovrebbe anche dimostrare la difficoltà con cui ci si può ci si può misurare è ovvio che nella misura in cui noi crediamo in questi valori ma dobbiamo riuscire a difenderli e lo possiamo fare non solo con la giustizia ma in molti modi a cominciare da delle corrette politiche economiche a cominciare da una difesa comune mi è piaciuto moltissimo il richiamo del passaggio della Bonino il verme l'idea che un soggetto politico non abbia una difesa comune è un qualcosa di inaccettabile a mio giudizio l'idea che ci siano delle politiche economiche che non abbiano solo delle logiche di medio breve periodo o di profitto ma che abbiano un ancoraggio forte a dei valori liberali che consentano anche di comprendere che possono in molti modi manifestarsi delle guerre non solo con le armi ma delle guerre commerciali e che quindi i nostri valori meritano di essere protetti a 360 gradi è un altro aspetto importante perché è ovvio che è dal basso che si può riuscire a convincere gli stati dove vige l'assolutismo una sfida particolarmente complessa che probabilmente il loro ordinamento il loro ordinamento non non è una soluzione però è ovvio che per fare questo dobbiamo evitare anche delle soddisfazioni al nostro interno quindi giusto l'autore dice la classe media forte una redistribuzione di benessere onde evitare che ci siano fasce disagiate su cui possano fare presa dei messaggi frutto di distorsioni di propaganda e questi sono tanti modi per certi versi non solo di evitare la guerra ma di rafforzare i principi di giustizia penale internazionale ed in ordine mondiale vicino alla nostra cultura democratica che è frutto del rispetto dei principi ma soprattutto che non deve mai tollerare il sopruso e l'invasione ed è giusto che l'invasione sia diventata un crimine di guerra gravissimo perché non si può da una parte parlare di sovranità nazionale e dall'altra accettare che ci sia un qualcuno che ritiene di poter ledere legittimamente un principio basilare dello Stato di diritto l'ultimo aspetto che credo sia importante è capire che cosa possono fare le giurisdizioni nazionali rispetto ad ipotesi come queste e questo non è un tema da poco perché se per certi versi io sono un pochino diffidente all'idea che ci possano essere delle giurisdizioni domestiche all'interno del territorio europeo e non solo che provano ad aprire diciamo delle inchieste rispetto a quello che sta accadendo là mi sembra evidente che soprattutto se non ci sarà una sapraffazione della nazione ucraina perché a quel punto non so quello che potrebbe essere da questo punto di vista ma mi immagino che ci saranno dei processi che non saranno più solo nei confronti dei vertici per le decisioni politiche ma immagino che città per città sopruso per sopruso crimine per crimine almeno si tenterà di svolgere attività giudiziaria così come organi parlamentari che hanno la possibilità di fare anche attività investigativa e questi sono i temi poi ci sarebbe un passaggio successivo e con questo chiudo l'intervento se noi siamo realmente legati ai valori dello Stato di diritto dobbiamo capire che i conflitti non possono essere per sempre quindi la grandezza poi dovrebbe essere la capacità di riconciliazione oggi è prematuro parlarne però guardate recentemente sentivo Marta Cartabia in un in un convegno che parlava un po' delle riforme legate alla giustizia riparativa lei diceva mi ha toccato sembrerà banale ma in quel momento storico quando ha richiamato le forme di conciliazione che in Sudafrica ci sono state in seguito all'apartheid come nasce una nazione un popolo non può nascere sui conflitti può e per certi versi forse deve passare attraverso i conflitti ma poi è la fase della riconciliazione che sta alla base effettiva del risorgimento ed uso un termine caro a me ma caro credo anche a mio amico Oscar Giannino grazie possono nascere le nazioni da guerre certo moltissime anzi quasi tutte possono nascere anche da guerre civili da una seria pacificazione dopo guerre civili la tradizione qui in Europa è lunghissima dalle guerre religione del 400 500 Reco IV Nantes bla 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 Sudafrica esempio noi siamo un casonomalo però anche questo noi Italia l'Italia non è stata uguale tra il 43 e il 45 c'è una parte d'Italia in cui ci fu una vera guerra civile non c'era solo l'occupante nazista da quando Claudio Pavone nella storiografia italiana ha introdotto con grande scandalo la nota a sinistra il fatto che ci fosse una guerra civile che significava anche esaminare le due parti contrapposte i fascisti repubblichini insieme agli esterminatori nazisti che ogni giorno che Dio ha mandato in terra dall'autunno del 43 alla fine del 45 hanno fatto media io per questo studio lo scrivo sempre tra le 50 e le 150 vittime prigionieri civili o partigiani rastrellati ogni giorno in Italia c'è stata una parte d'Italia in cui quella è stata davvero guerra civile perché è stata così in Legoria è stata così in Toscana è stata così in Piemonte è stata così in Emilia è stata così nel resto del nord la parte liberata prima no non nello stesso modo ha pagato un duro prezzo Napoli lo pagò nelle quattro giornate centina migliaia di uccisi anche di poi dopo ma noi siamo nati come paese senza fare i conti con quella guerra civile noi ci abbiamo messo una grande distesa opaca di oblio c'era una parte politica predominante anche la sinistra che non voleva fare i conti pensava che si potesse riciclare il tutto grande tema delle furazioni Germania mandavano gli americani hanno fatto un'epurazione seria seria le regole che presiedono alla indipendenza dei grandi giornali tedeschi nascono l'ha fatto gli americani dissero ci vogliono fondazioni non solo proprietari industriali a garanzia dell'indipendenza da noi prevalsero gli inglesi che temevano una cosa alla greca con i comunisti che se ne andavano dall'altra parte e quindi non ne abbiamo fatto i conti lo paghiamo ancora adesso tant'è vero che noi siamo ogni cazzo di governo scusatemi la questione è fascismo sì fascismo no che i conti lì noi li abbiamo fatto una guerra civile è costata migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di vittime che vengono ricordate da una parte gli altri dicono ma c'erano le vittime anche dell'altra ma noi i conti davvero con questo non ne abbiamo fatto gli apparati dello Stato della magistratura dei servizi sono rimasti per decenni il risultato che si è visto nei terrificanti anni 70 e 80 degli apparati italiani di fronte a quello che succedeva quindi l'importanza di quello che ha detto lui che vale anche perché ci sta a cuore la Russia dopo Putin ci stanno a cuore i russi certo che ci stanno a cuore e come? ci sta a cuore chi ha la voglia di andare in galera ilia Yashin pensate che cosa sta facendo non solo Navalny e così bene ilia Yashin che sorride di fronte al giudice che lo condanna pronuncia un discorso memorabile e pensa al futuro ecco per pensare a quello ci vuole una cosa di questo genere qua non ci vogliono le forche ci vuole un grande processo di rilaborazione che duri anni se no per la Russia dove è sempre stato difficile la mia tecchita la democrazia liberale la storia è stata diversa se no ci candidiamo a pensare l'impossibile ma l'impossibile non avviene poi e anche per questo il libro è più di suggestione di Vettore Emanuele però do la parola a Costantino perché non ti invidio tutti i temi di cui ci occupiamo di più il costo noi abbiamo un sistema di informazione che ha detto pagheremo noi la Russia con le sanzioni sono inefficaci non sta pagando niente folia totale non reggeremo gli effetti della guerra energetica disintermediazione del cappio che avevamo messo il gas russo in pochi mesi era tutto impossibile secondo la grande informazione italiana i dibattiti i televisivi che vi propugliano ogni sera mio Dio cosa stava succedendo avevamo sfidato Putin che aveva ragione perché l'economia gli dava ragione ma dopodiché il costo non è solo quello dell'energia il costo poi è il costo del non fare se noi non gli diamo tutto quello che è necessario perché prevalga l'invaso se l'invasore prevalga che difende la libertà su chi deprime uccide stermina bombarda c'è il costo di quello e nel libro questo è il costo fondamentale da pensare se vogliamo che il nostro valore di libertà non commetta gli errori di abismi commessi in passato quindi scegli tu parlare di questi tanti aspetti grazie Oscar sì prima di cominciare a risponderti e di fare questo breve talk però permettetemi di ringraziare voi che siete qui in sala ancora una volta con Libri Oltre Illusioni riempiamo le sale questo è grande motivo d'orgoglio per noi che abbiamo cominciato oramai quasi quattro anni fa quasi per scherzo in realtà era uno scherzo un po' beffardo perché eravamo arrabbiati eravamo arrabbiati dell'informazione di cui parlerò fra poco e che Oscar ha introdotto eravamo arrabbiati fondamentalmente contro l'informazione quella che qualcuno chiama mainstream ma che forse tanto mainstream non è almeno nel nel significato originale che si vuole dare a questo termine e noi abbiamo visto crescere pian piano una comunità che poi come vedete riempie una sala e ad ogni chiamata ad ogni sussulto che cerchiamo di dare risponde sempre con grande generosità devo ovviamente ringraziare Bianca perché io non so quanto ci credesse quando la voleva organizzare però vai tranquilla ce la farai non ci saranno problemi vedrai che sarà un successo ovviamente ringrazio gli altri correlatori è una grande occasione questa per incontrarci e per parlare di un tema che non è soltanto quello della conquista di Kherson dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il valore profondo del libro che ha scritto Vittorio Emanuele sta nel sottotitolo appunto il costo della libertà e cioè quanto siamo consapevoli di questo enorme bene che abbiamo conquistato certo attraverso fatti tragici anni terribili quanto siamo consapevoli come cittadinanza italiana europea e occidentale del fatto che non soltanto questa libertà che abbiamo ha un costo ma consapevoli del fatto che c'è qualcuno che vuole attaccarla e sono nemici esterni naturalmente e Putin naturalmente su cui tra poco dirò qualcosa ma sono ci sono anche tanti nemici esterni alcuni dei quali consapevoli nel senso che probabilmente nella loro come dire ideologia nella loro idea nei loro desideri non c'è la libertà perché la libertà probabilmente per loro è un bene che quanto in primo piano ma in secondo in terzo perché hanno altre aspirazioni ma la cosa che più mi spaventa in questo anno anzi in questi anni ma a maggior ragione dal 24 febbraio 2022 la maggior questione che mi spaventa è che tanti cittadini non ne sono consapevoli dell'importanza di quello che dobbiamo difendere dobbiamo difendere non soltanto inviando le armi all'Ucraina ma dobbiamo difendere anche nel dibattito pubblico italiano ora Vittorio nel suo libro parte proprio da lì parte da questa anche se lui non fa nomi io vorrei farlo se me lo consenti c'è c'è il dibattito pubblico sulla guerra e non solo ma ha maggior ragione su questa invasione è un dibattito pubblico fortemente inquinato ed è inquinato appunto dai bias che sicuramente ci sono per alcuni ma come dicevo prima anche dall'inconsapevolezza del significato profondo che ha questa vicenda ora noi quando c'è stato l'attacco l'invasione il 24 di febbraio come associazione come gruppo di amici intellettuali ci siamo sentiti tutti quanti in dovere di fare qualcosa abbiamo l'abbiamo fatto con i mezzi che abbiamo cioè quelli della divulgazione senza grande accesso alle tv anzi nessun accesso alle tv perché siamo scomodi e siamo scomodi da sempre perché abbiamo l'abitudine di dire le cose in modo brutale voi non sapete non immaginate quante volte siamo stati chiamati come potenziali ospite e poi qualcosa è andato storta e hanno detto no sono spariti non avete proprio idea quindi a maggior ragione ci fa piacere che oggi Vittorio sia personaggio pubblico e possa possa parlare questa lingua dicevo l'attacco non è soltanto l'attacco ad un modo di essere ad una evoluzione dell'Ucraina nella direzione di diventare una democrazia compiuta è l'attacco annunciato perché quest'attacco era stato annunciato è annunciato da anni ad un modo di intendere lo stato diritto ad un modo di intendere il sistema di potere ad un modo di intendere qual è il ruolo del presidente di uno stato del primo ministro di uno stato e qual è il ruolo della magistratura o della banca centrale o della stampa il motivo per cui ci siamo in qualche modo sentiti tutti quanti in dovere di coprire le notizie che arrivavano dall'Ucraina in modo così puntuale capillare quotidiano noi abbiamo una rassegna stampa che va in onda dal 24 di febbraio 2022 tutti i giorni tutti i giorni abbiamo creato una redazione dedicata all'Ucraina che non fa soltanto naturalmente la mera trasmissione delle informazioni che arrivano dal fronte ma fa anche delle riflessioni il territorio partecipa tra l'altro abbastanza spesso a queste riflessioni ecco allora ci siamo sentiti in dovere di affermare una cosa che il libro fa molto bene e cioè noi dobbiamo essere consapevoli come cittadini europei occidentali del bene prezioso che dobbiamo difendere che qualcuno vuole attaccare questo bene prezioso lo trovate in mille sfaccettature anche quelle che probabilmente non saltano subito all'occhio perché ci siamo abituati la prima cosa la libertà di stampa ora dicevo noi nasciamo perché certa stampa non è ma il grande valore di poter dire come la si pensa anche le cose più assurde il grande valore di poter dire come la si pensa cosa che in altre pseudo democrazie non avviene non è possibile e noi di questo di questa ricchezza non siamo sufficientemente consapevoli noi di questa ricchezza non abbiamo la percezione per noi mi riferisco ripeto a un gruppo che va anche oltre liberi le illusioni a un gruppo di giornalisti intellettuali studiosi e così via in qualche modo questa è stata l'occasione perdonatemi un pochino di presunzione di dire ve l'avevamo detto perché noi sono 10 12 15 anni che diciamo che con Putin non si possono fare affari abbiamo avuto invece una classe di dirigenti non soltanto italiana che a Putin si è consegnato per convenienza economica certamente qualche volta anche per delle convenienze economiche non propriamente diciamo così trasparenti ma fa nulla abbiamo una classe politica che si è e anche una classe cioè un ordine di persone di di giornalisti di divulgatori che si è consegnata senza guardare quello che poteva essere sotto l'occhio di tutti la Cecenia non è una cosa che è venuta ieri la Georgia non è una cosa che è venuta ieri e la presa della Crimea non è una cosa di cui ci accorgiamo oggi e poi c'è stato tutto il resto e poi c'è stata la guerra ebbene queste cose eravamo in pochissimi veramente in pochissimi le dicevamo noi più qualche altro penso mi piace citarlo perché un carissimo amico è perché per i suoi iscritti ha ricevuto minacce dirette pesanti Jacopo Jacopo allora mi piace ricordare per esempio Jacopo che riceve ha ricevuto minacce pesanti da non da come dire un commentatore un account twitter semi sconosciuto o sconosciuto da i vertici dell'ambasciata russa e allora queste cose erano sotto gli occhi di tutti moltissime persone non le hanno volute vedere questo libro secondo me fa due grandi riflessioni la prima è questa qui cioè dobbiamo avere consapevolezza e coscienza che la democrazia liberale che è costata tanto è un bene da difendere la si può pensare in tanti modi ci si può dividere magari sulla forma che si deve da oppure su dei principi di carattere economico ma i principi fondanti di Italia ed Europa devono essere difesi con la forza devono essere difesi con la forza con la forza del pensiero con la forza del dialogo con la forza della retorica e qualche volta anche con la forza delle armi e questi principi e diventa ancora più significativo il fatto questa è un'altra cosa che penso di poter dire sono in pochi ader fatto questa riflessione immediatamente prima immediatamente dopo quel giorno di febbraio dell'anno scorso io sono convinto che una delle ragioni non l'unica ma una delle ragioni per cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina sta nel fatto che l'Ucraina in qualche modo poteva rappresentare lo specchio di ciò che sarebbe diventata la Russia fa un po' di tempo e cioè più o meno culture simili con qualche differenza ma fondamentalmente culture simili una popolazione che insomma si intreccia no? sì 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 sappiamo di famiglie che dove c'è il papà russo e la mamma ucraina o viceversa sappiamo di non soltanto di scambi di carattere culturale i loro cugini o i loro fratelli che avevano intrapreso un percorso di ad ostacoli complicato ma un percorso verso la democrazia e verso la società aperta e nessuno mi toglie dalla testa che una delle ragioni sicuramente importanti per cui a un certo punto Putin ha deciso di rompere gli indugi è stato il timore il terrore che l'esperienza il laboratorio ucraino potesse diventare potesse essere esportato anche russo e lui quindi perdere ciò che ha costruito in questi 21 credo 21 22 anni di di potere il secondo elemento secondo me molto significativo ce ne sono tanti ma secondo me molto significativo nel libro di di vittorio è il fatto che di fronte alla retorica di chi ritiene che l'uso della forza sia anche la forza d'invasione sia legittimo e quindi chi sta dall'altra parte rispetto ad un dibattito fra come dire liberali non in termine nel termine che conosciamo difensori della democrazia liberale e chi invece questa democrazia liberale la vede debole corrotta declinante eccetera eccetera noi abbiamo al contempo una debolezza apparente ma che è anche una forza questa debolezza è il fatto di accettare di ammettere i propri errori ci sono dei passaggi in libro di vittorio vittorio ricorda come l'operazione Iraq nata secondo quella bugia è un errore l'operazione in Afghanistan così come è stata poi condotta e soprattutto per quanto mi riguarda per quanto penso io per come si è conclusa è stato un errore cioè ammettere che l'Occidente a volte per ragioni diverse commette degli errori importanti questo in un dibattito in un dialogo appare come debolezza perché una delle cose che per esempio vengono contestate dai Putin e da adesso c'è la questione iraniana quando l'Iran tenta di giustificare o quanto meno tenta di apparire meno atruce meno meno feroce di quanto è ricorda ricorda le cose gravi che sono state commesse in Iraq in Siria e da qualche altra parte dai paesi occidentali allora secondo me questa che appare debolezza che in un dialogo sicuramente può essere debolezza invece deve essere la forza cioè nel senso noi abbiamo il coraggio la possibilità la determinazione ad ammettere anche le incoerenze le incongruenze che qualche volta nella politica nella nelle politiche internazionali si commettono il mio invito quindi è quello nel dibattito pubblico che si sviluppa è quello di come dire dire sempre la verità noi nasciamo almeno dobbiamo avere la forza e il coraggio di anteporre la verità a quella che è la convenienza diciamo così di parte o personale perché sul lungo termine io sono convinto posso rappresentare la forza la forza delle idee la forza della convinzione che è più forte rispetto alla pura propaganda dall'altra parte si farà propaganda dicevo prima delle persone che 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 vittorio nel libro elegantemente non nomina io ne ho diverse in testa tra l'altro ci divertiamo nelle chat nostre adesso mi sono arrivati dei messaggi poco prima come dire a vedere su twitter magari profili non particolarmente significativi non sto parlando di influencer o di politici sto parlando anche di persone di persone diciamo così sconosciute che convintamente almeno apparentemente in modo convinto prendono le parti dell'aggressore ripeto ci sono due categorie secondo me ci sono quelli che sono realmente convinti che che un leader forte apparentemente forte come Putin possa essere la salvezza di un paese e ci sono quelli che non hanno abbastanza coscienza del fatto che quello che si sta cercando di difendere è ciò che si è conquistato nel passato e allora noi viviamo in un mondo in cui quotidianamente bisogna rintuzzare a queste persone ripeto che siano famose che siano influencer che vadano in tv ogni martedì sera e quindi avete capito più o meno a chi mi riferisco è uno che ha un cognome che comincia però e finisce con Sini quotidianamente bisogna ribattere a queste persone il fatto che hanno la fortuna di vivere in un mondo che permette loro di dire qualunque bestialità questa è la grande forza dell'Occidente che ha mille problemi che ha mille problemi adesso stavo pensando anche all'Europa per fortuna la questione dell'Eopart sembra essersi sembra essersi risolta certo è imperfetta l'Occidente è imperfetto la democrazia ha mille debolezze ha mille cose che dovrebbero essere migliorate e la democrazia tra l'altro è un percorso la democrazia non è una cosa che è codificata all'interno di leggi di trattati eccetera e poi viene applicata automaticamente un paio di settimane fa tra l'altro vedo Matteo che risaluto insieme ad altri amici eravamo in un'altra occasione a parlare di Afghanistan e una delle domande che è stata fatta giustamente ma la democrazia si può esportare? la mia risposta è stata no la democrazia non si può esportare perché la democrazia deve essere acquisita dalla cultura la democrazia deve diventare parte integrante della cultura di un paese altrimenti non è esportabile soltanto quando questo processo è stato avviato e in qualche modo si è cristallizzato all'interno della cultura di quel paese la democrazia può dirsi avviata verso il suo compimento e allora dicevo la democrazia è una cosa in divenire e noi dobbiamo in questo percorso essere coscienti di quanto importante per noi oggi dire che siamo fieri della nostra democrazia che siamo fieri che altri paesi vogliono avviarsi verso la democrazia di stampo liberale e siamo fieri che ci sia qualcuno che in questo momento a rischio della propria vita ci sta difendendo perché l'attacco ripeto dicevo all'inizio non è soltanto un attacco a territori contesi più o meno contesi l'attacco di Putin è un attacco ad un modo di vivere che lui non può tollerare ad aperture nella società che lui non può tollerare non vuole non può tollerare poi magari non lo vuole nemmeno ma non li può tollerare perché metterebbero a rischio quel mondo che lui ha creato e che sta cercando di difendere tra le tante cose che vi sentite ripetere ogni giorno ce ne sono alcune che mi colpiscono particolarmente cioè quel personaggio lì non mi colpisce da mai perché lo conoscevo da prima quindi non sono sorpreso sono sorpreso che lo abbiano invitato ma neanche di questo sono sorpreso che continuo a invitarlo perché se capite come funziona l'informazione in televisione è fatta su chi ha chiapa audience a prescindere da quello che dice quindi io non mi stupisco più ma il punto invece è questo che riguarda un pezzo delle questioni che chiedo aggiuntivamente a Vittorio Emanuele oltre a tutto quello che vorrà di affrontare prima di dare poi la parola a voi per le domande alcune di queste cose non so veramente dire se l'informazione italiana non è in grado di capirle mentre quella è malafede pura ecco quella compreso il ruolo che si dà a gente che poi ha riviste di geopolitica da molti anni che improvvisamente scrive articoli che dicono ma adesso però bisogna combattere contro lui perché cadeteci in questa trappola così poi vi dirò che per anni vi abbiamo detto che sbagliavate a farlo ma avete capito di chi sto parlando probabilmente però ci sono notizie che invece non hanno qui il ridevo che meritano per capire quello che sta succedendo per esempio a proposito della Russia che tutto può andare avanti in eterno per le sanzioni io non so quanti di voi sappiano perché sui giornali italiani non ho visto un grande approfondimento sul fatto non era mai capitato dai tempi di Stalin cioè dalla grande guerra di liberazione nazionale della rodina della patria su cui Stalin è costretto a unire tutto il paese fingendo per un po' che non sia solo i borsevichi perché aveva bisogno di mandare tutti al fronte non era mai capitato nella storia russa che pure ha un'economia pianificata comanda il partito eccetera eccetera quello che il governo Putin è stato costretto a decidere due mesi e mezzo fa estromettendo in toto il governo il governo russo in toto perché trovandosi nella condizione altro che l'economia russa non subisce danni ci sono valutazioni realistiche settore per settore dell'industria russa di quanto le perdite siano a doppia cifra perché le catene di fornitura dell'occidente sono finite e quelle dei cinesi non coprono per intenzionalità dei cinesi detto tutto questo non era mai capitato che il governo fosse completamente stromesso perché al suo posto siccome tutta l'economia russa è stata ricentralizzata per decreto presidenziale esclusivamente sulla produzione bellica prima di qualunque altra cosa hanno costituito un organo nuovo di coordinamento dell'operazione speciale si chiama così l'organo dove ci sono alcuni capi di oblast fedelissimi sono quelli degli oblast da cui bisogna recuperare più dei coscritti da mandare al fronte perché su questo non è che li mandano dove c'è più sensibilità ai baschieri e così via è un po' di gente fedele dei servizi anche qui è molto interessante capire chi c'è e chi non c'è perché c'è un conto che è aperto là dentro e così via persino il ministro della difesa ufficiale che resta lì non conta niente anche se c'è nell'organo lo sapevate questo per esempio? No ci avete fatto caso che il governo non se la deve passare il governo in questo caso non il governo ufficiale della Russia la presidenza che è quello che conta non se la deve passare tanto bene se ha accettato in questi mesi che una ma oramai stanno diventando due o tre ma soprattutto una milizia privata che viene descritta dai giornali italiani come il braccio armato di Putin in realtà non lo è ha ottenuto in questi mesi di essere dal punto di vista del diritto civile del diritto penale e del diritto di guerra del codice penale per di più militare sia in tempo di guerra che di pace sotto questi cinque capitoli è diventata autonoma e indipendente è uno stato a parte rispetto alla Russia sto parlando ovviamente di Wagner e di Prigogine suo grande sudale però perché la Wagner è andata in Russia per anni è andata in Africa per anni e oggi ha addirittura ha introdotto una milizia di frontiera propria attenzione alle milizie di frontiera propria perché vogliono dire una certa cosa perché la Wagner ha ottenuto il riconoscimento prima era informale adesso l'ha ottenuto formalmente da due mesi che nelle aree in cui va a combattere le risorse minerarie per esempio nonché i pezzi di manifattura che rapina se li tiene per sé non li dà la Russia ecco perché sono in Africa non so se è chiaro stanno facendo lo stesso lo hanno fatto e vogliono farlo lo stesso nel Donbass e così via allora questi sono segni di sgretolamento persino di un ordinamento autocratico che voi siete abituati a vedere come Putin comanda su tutto invece non è troppo vero se nella catena essenziale di comando per coordinare l'economia al servizio dello sforzo militare e nello sforzo militare stesso nella parte in cui muoiono più russi perché a Bakhmut è così ha messo ufficialmente di aver perso in 17 giorni quasi mille uomini non era mai capitato nei mesi di guerra non era capitato non ha messo quasi tutti della vagna però lì è uno stato a parte cioè questi segni qua altro che non sta succedendo niente in Russia è difficile però per chi fa il mio il nostro mestiere si attinge si attinge si attinge a una sterminata mola per esempio di chat critiche che non sono di critica democratica al sistema dei pubblici sono di critica oltransista nazionalista ancora più militarista e così via dove si leggono però tutte le cose che girano sull'inefficienza dell'apparato militare russo allora io non voglio farla lunga dico solo che da questo si capisce che non è vero che la Russia andrà avanti in eterno così non possiamo sapere quanto profondo sarà lo sgregato della mente e che cosa porterà ma i segni ci sono e come uno due c'è un capitolo io ne parlo ogni volta che lo presento il libro di Vittorio Mone che dice ripensare la guerra sì perché non dobbiamo solo tenere duro noi dobbiamo avere anche il coraggio di dire esplicitamente che noi dobbiamo se vogliamo difenderlo questo ordinamento liberale internazionale dobbiamo essere capaci di ripensare la guerra parola terribile sia nel concetto che nel modo di farla perché la lezione ucraina sul campo e quello che tutto ciò che avete creduto e vi hanno raccontato sulla potenza assolutamente inaffrontabile del sistema bellico russo era il fondamento tranne armadi pieni di ferraglia siccome il conflitto oggi ad alta intensità come quello è tradizionale oltre a quello asimmetrico a parte che la Russia conduce è fatto di tecnologie nuove intelligenza artificiale controllo di tutte le frequenze elettromagnetiche il più possibile di mezzi non a pilotaggio umano di una integrazione totale di primo secondo terzo livello delle difese aeree e così via quello che si dimostra è che loro non avevano le tecnologie le dottrine né tattiche né strategiche per farlo ecco perché gli ucraini che pure non hanno i loro numeri hanno ottenuto il risultato che hanno ottenuto questa roba riguarda noi e concludo riguarda noi perché dopo aver appaltato la nostra sicurezza energetica a Putin la nostra difesa agli Stati Uniti e le catene di fornitura interesse lo hanno fatto più di chiunque alla Cina beh adesso abbiamo alcune rapide lezioni perché non è solo l'attacco russo all'Ucraina e all'Europa perché ci descrive come gente senza sovranità perché saremmo dei preoccupazzi nelle mani degli americani non è solo quello no c'è un mondo che rapidamente si è messo in moto per confronti muscolari continentali su tutte le grandi questioni economiche per esempio economiche che riguardano l'industria da una parte gli Stati Uniti e dall'altra la Cina e noi siamo in mezzo noi ci siamo affidati agli Stati Uniti e dopo la caduta del muro ancora di più abbiamo smontato i nostri apparati di difesa siamo stati distratti da come evolveva la guerra i turchi lo hanno capito molto meglio di noi e gli iraniani lo hanno capito molto meglio di noi Israele l'ha capito ovviamente meglio di noi e oggi scopriamo che dietro al fatto che poi non gli diamo le armi agli ucraini è perché molto spesso con le avanzate noi siamo i primi a non averle l'Italia può dare un sistema Sampti che è un sistema di protezione aereo avanzato agli ucraini sì ma non può darlo perché Sampti è italo-francese e in realtà anche i sistemi che abbiamo noi noi abbiamo solo quattro batterie Sampti ma abbiamo dovuto ammettere agli italiani quelli che seguono questa cosa che non sono operative perché non abbiamo ancora risolto i problemi di software tra noi e i francesi capite cosa vuol dire ecco questa roba qua ecco i tedeschi sì è vero i carri non li vogliono dare per altre ragioni però nell'ultimo report al Bundestag sulla condizione operativa del Bundeswehr cioè delle forze di terra tedesche sui 300 carri Leopard che ha oramai solo la Germania aveva migliaia ai tempi della guerra fredda abbiamo tutti smontato sui 300 ne sono operativi 128 ecco questa è la realtà in cui siamo dobbiamo essere capaci anche di questo perché siamo bellicisti no perché c'è bisogno all'occorrenza di avere queste cose pronte e io ringrazio il dottor Emanuele perché parlare di queste cose per esperienza personale essendo scritto per anni sugli organi di formazione della difesa è molto complicato perché passi o per guerra fondaio o per passo militarista o per uno di destra fascista che sei innamorato delle tecnologie belliche no non c'è niente di più infondato che credere che la libertà non valga la pena di poter contare sugli strumenti per sconfiggere chi l'attacca altrimenti non si usano ma se non li hai quando lui ti attacca ed è convinto che tu non li abbia e quei pochi che hai non li userai allora la sua libertà è finita è quella degli Ucraini che viene prima di noi è l'antemorale della nostra fatevi un giro nei paesi baltici se non li conoscete fatevi un giro in Polonia se non la conoscete chiedete di alla gente come la pensa hanno poche decine di carri armati avanzati li hanno già dati tutti agli Ucraini perché perché loro sanno cosa vuol dire non lo hanno dimenticato chi è giovane non ha dimenticato la lezione della tragedia che hanno subito dall'autoritarismo nero e rosso ecco lo dico perché io ho dei figli e passo già il tempo sia con i due grandi che con i due piccoli a parlare incessantemente di queste non col termine con cui lo facciamo noi oggi ma io credo che la libertà si impari da giovane perché solo così non si dimentica chi è vecchio e scomparso per difendere Vittorio Emanuele chiudi tu beh allora intanto vi ringrazio di essere qua stasera di essere qua a partecipare a questo dibattito insomma cercherò di essere abbastanza breve per lasciare spazio alle vostre domande e curiosità tante cose sono state già dette e io non vorrei raccontare per così dire il libro per filo e per segno perché mi annoio più che altro perché spero che lo leggiate senza senza che ve lo racconti ho un po' questa questa aspirazione però alcune cose vorrei sottolinearle il primo la prima cosa è partendo da quello che diceva prima Guido cioè io in questo libro metto al centro le istituzioni cioè cerco di ragionare sul fatto che quello che ha davvero consentito questo lungo periodo di pace europea questi 80 anni di pace è stato lo sviluppo di un tessuto istituzionale a livello internazionale su cui le istituzioni democratiche domestiche potevano appoggiarsi e quindi un lavoro di rimbalzo e di rinforzo tra le istituzioni internazionali e le istituzioni democratiche perché le istituzioni internazionali sono state costruite comunque concettualmente sugli stessi principi e sulle stesse regole di funzionamento delle democrazie nazionali e questo in qualche modo ha riflesso per così dire la luce della democrazia nel sistema internazionale e viceversa facendo comparire facendo giocare i due sistemi in sintonia rinforzandosi reciprocamente quello è lo stipite il mondo funziona così perché grosso modo le democrazie funzionano così e viceversa il mondo è organizzato in maniera tale da proteggere le democrazie e non da danneggiarle è un po' la realizzazione della vecchia della vecchia aforisma di 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 Wilson no nel 19 fare del mondo un posto sicuro per le democrazie che è una grande trasformazione perché significava fare in modo che le democrazie affacciandosi nel sistema internazionale non ne venissero da questo minacciate come invece avveniva fino a 1914 poi fino a 1939 poche democrazie i cui principi pacifici contrastano con il principio della pura violenza che era il principio dominante a livello internazionale allora su questo io faccio un ragionamento molto semplice parto da qui diciamo se volete esattamente come il caldo che ti accorgi che ti serve per vivere quando fa freddo tipo adesso oppure no l'ossigeno che ti accorgi che ti manca quando non ne hai più non riesci più a correre allo stesso modo il ruolo l'importanza delle istituzioni l'accogli meglio quando le istituzioni sono brutalizzate da una guerra d'aggressione condotta nei confronti di uno stato vicino e del sistema dell'ordinamento internazionale e quindi quando ragiono sul ritorno della guerra da un lato dico appunto attenzione avere riportato la guerra in un territorio che era nelle condizioni migliori tra tutti gli altri territori per riuscire a tenerla fuori essendo stato capace di imbrigliare dentro la logica istituzionale sia pure in modalità differenti persino i sistemi totalitari pensate alla conferenza di Helsinki all'atto finale di Helsinki fatto in piena guerra fredda se questo succede vuol dire che è criminale avere fatto questo perché le istituzioni sono state quella cosa che ci hanno consentito la pace fino a qua e dicendo questo cerco anche di mettere in evidenza il fatto che non esista una logica binaria in cui c'è la forza il maschio alfa per così dire il realismo che poi non è il realismo è una versione sciatta del realismo è una versione del realismo spiegato da mio cugino Vincenzo per così dire e dall'altra parte l'idealismo astratto e puro il mondo degli ideali no non funziona così la realtà politica è fatta di ideali istituzioni fatti volontà politica coraggio azioni e la realtà politica internazionale post 1945 è quella che più ha cercato di sforzarsi di far convergere principi istituzioni valori e fatti materiali le istituzioni per molti aspetti hanno fatto quel lavoro di tessitura continua tra i valori da una parte e i dati materiali fatti dalla potenza militare fatti dalla potenza economica molto più che in passato questa è un po' la prima cosa che volevo che volevo dire la seconda cosa che mi veniva da dire avendo ascoltato le riflessioni appunto c'è soprattutto nel nostro dibattito parlo poco appunto non parlo dei protagonisti del dibattito pubblico italiano perché mi sembrava inutile le argomentazioni sono talmente irrisibili che non e le posizioni sono talmente insostenibili che francamente però evidentemente sono partito questo libro parte da un moto di indignazione e di necessità di fare un po' di chiarezza a forza di sentire sciocchezze nei primi mesi della guerra diciamo beh mettiamo in ordine due cose perché non è possibile non è possibile che questo sia il livello è stata quasi se volete ancora più di indignazione è stata una questione di professionale a un certo punto uno si scorcia di vedere la gente che gioca male e dice non è possibile e dice dammi un attimo il pallone non è possibile così non si può fare e lo dico senza spocchia cioè veramente è proprio allora nel dibattito politico italiano si viene compiuta costantemente un'operazione si dipinge un ideale astratto della libertà perfetta della democrazia perfetta della giustizia perfetta della pace perfetta per poter dimostrare che noi non viviamo in un sistema democratico libero pacifico è giusto e quindi che tutto sommato dato che noi non ci viviamo ma lo sosteniamo ma sosteniamo quei principi siamo ipocriti e quindi siamo uguali a quegli altri che è una che è la stessa concezione se mi permettete di chi pensa che il sesso sia quello che vede sui canali porno sul computer un sesso senza odori sapete quanto contano gli odori per il sesso nel bene e nel male un sesso senza levigato in cui le donne sono tutte bellissime gli uomini sono tutti bellissimi e quindi poi c'è quel fenomeno che descrivono gli psicologi e i nostri adolescenti che fanno vanno in giro poco a fare sesso e quando pensano quando conoscono qualcuno o qualcuna pensano che fare sesso sia girare un fil porno sostanzialmente da zero da come diceva Woody Allen non l'ho mai fatto ma mi sono allenato moltissimo da solo da quello stato a Rocco Sifredi finché riguarda le attività appunto sessuali private ognuno faccia quello che crede ma se questa è la logica che si applica nel descrivere rispetto per poter dire o quello o niente quindi risultate niente questo inquina il discorso e lo vediamo anche nella figura dei leader fino a quando si è potuto si è esaltato Putin i più trenericiuti andando in giro con magliette con la faccia di Putin eccetera quelli appena appena a un livello superiore diciamo così di neuroni sostenendo che Putin sì era sicuramente un leader non democratico una carogna ma era uno statista voi ricordate? no tutti erano statista cioè questo agli italiani piace molto no? canaglia sì però bravo l'ideale dell'esaltazione del furto con destrezza che è una cosa che è sconvolgente nella nostra cultura lo scippatore no? bravo però ha fatto bene che tu dici no sta rubando ti spiego sta rubando una vecchietta cioè non è che se lo fai bene non è più un furto resta un furto ecco quando non si è più potuto esaltare Putin perché dopo quando vedi le stragi dei palazzi distrutti eccetera c'è un limite per tutti si è iniziato a vilipendere Zelensky e adesso se ci fate caso negli ultimi settimane negli ultimi mesi è l'attacco sistematico a Zelensky Zelensky che è responsabile dei morti suoi Zelensky che non ha cuore di fronte alle sue vittime Zelensky che è capo di un governo corrotto Zelensky che è ingordo di armi Zelensky che è responsabile e anche questa è un'operazione vigliacca ancora una volta esaltare l'aggressore quando non può più farlo si è chiede di emigrare la vittima che è stata l'operazione fatta con l'Ucraina con la dirigenza ucraina sì ma anche gli ucraini ma non potevano dargli sto Donbass ma sì ma in fondo gli ucraini l'Ucraina se si fosse messa una gonna un po' più lunga se non fosse uscita la sera nessuno l'avrebbe stuprata e adesso che è successo fa tanto la cosa fa tanto la difficile ma un bel matrimonio riparatore si conclude dai un bel negoziato un bel trattato e non è successo niente e continuiamo come prima ecco questa è un'altra cosa che è veramente fastidiosa del dibattito no? la legge del più forte travestita da amore per la pace io ho sentito le stesse persone in questi 11 mesi che dicevano gli ucraini non resisteranno la russa è più forte quindi vincerà dopo 11 mesi eh ma gli ucraini resistono troppo poi i russi si arrabbiano incredibile ma no ma giura si arrabbiano ah allora capite che è questa congere di argomentazioni che erano innanzitutto eticamente forvianti l'idea appunto che la politica sia il regno del trucidame no? chi è più trucido? che la politica internazionale sia una gara di rutti sostanzialmente no? non si può avere questa concezione le semplificazioni più offensive che non si fermano neanche davanti ai morti perché poi finché parliamo di cose diciamo commentiamo la politica così per parlarne chi se ne frega ma qui ci sono centinaia di degnaia di morti e bisognerebbe avere rispetto per i morti e sentire il coraggio trattato come un problema un impiccio e l'opportunismo trattato come la furbizza questa è una cosa indecente che non può essere non può essere tollerata per quanto riguarda la e questo in questo c'è stato anche da un lato lo svilimento del processo di democratizzazione dell'Ucraina cioè l'Ucraina non è la democrazia svizzera ma neanche noi lo siamo ho sentito dire e vedi hanno dimesso delle persone per corruzione vedi che sono proprio marci che invece capite bene che il ragionamento è opposto cioè persino in un momento come questo un sistema funziona andando a colpire quelli che vengono ritenuti sospettati di corruzione da un lato dall'altro nel momento in cui le persone muoiono per la libertà non si può tollerare che qualcuno lucri su questo certo in un paese come il nostro che non ha mai colpito i profittatori di guerra dopo tutte e due le guerre mondiali non ha mai colpito gli extra profitti di guerra questo non sta bene dirlo in Francia in Gran Bretagna negli Stati Uniti ci sono state extra tassazioni dopo le due guerre mondiali sui profitti realizzati dalle fabbriche d'armi che giustamente producevano armi ma non potevano diventare stralicche mentre la gente moriva per difendere il paese in Italia no anche gente che ha posseduto squadre di calcio non ha fatto restare profitti con le guerre tanto per chiarirci no? però non si dice mai per carità accanto a questo c'è il catastrofismo adesso quelli che sostenevano che era inutile mandare armi perché la guerra sarebbe comunque finita presto ci dicono no non basta mandare armi mandare armi sarà non sufficiente bisognerà prima o poi combattere e mandare soldati lo scopo è sempre lo stesso fare venire meno il sostegno dell'opinione pubblica al diritto dell'Ucraina di difendersi ad aiutarla ma prima si prova dicendo dicendo che è inutile che è pericoloso che è ingiusto e poi si dice invece che sì è giusto però bisognerà andare fino in fondo così la gente dirà ma io non voglio la terza zona mondiale cosa che nessuno vuole evidentemente cioè un atteggiamento in cui ti chiedi se c'è mala fede o se c'è magari solo il narcisismo allo stato estremo per cui l'importante è che ho ragione io per cui devo avere ragione siccome sbaglio sistematicamente tutte le previsioni perché ho sbagliato tutte le previsioni sistematicamente tutte non parlo di una persona particolare parlo di diverse persone allora a quel punto continuo a insistere a spostare sposto il pallone da tutte le parti del campo in orizzontale per non farmi prendere anche se stai correndo in orizzontale a un certo punto ciccio ti stancherai di correre e qualcuno quando sarai stanco ti tira laggiù magari tutte queste cose impediscono alimentano una difficoltà a ragionare in maniera razionale a ragionare in maniera fredda che non vuol dire non empatica noi dobbiamo essere empatici sui valori e sulle cause che sono in gioco se quelle cause sono importanti per noi ma l'empatia non implica l'emotività se io sono empatico con un naufrago non è che mi agito dicendo oddio sta affogando sta affogando facciamo qualcosa non è che sono più empatico io devo essere empatico con un naufrago e se voglio salvarlo devo mantenere la calma e cercare di tirarlo fuori dall'acqua questo devo fare e se voi invece sentite il dibattito di chi si proclama amico della pace ci parla del rischio della terza guerra mondiale il rischio è dato per imminente l'altro giorno l'altro ieri un giornale che ha fatto in questi ultimi mesi in questi 11 mesi la confusione sulla guerra della sua bandiera ha pubblicato la notizia che gli scienziati quindi gli scienziati sarebbero chi gli scienziati come dire mio cugino Vincenzo sempre hanno detto che mancano 90 secondi sull'orologio verso la guerra mondiale ma capisci che fa il paio con quella che ha detto che chi beve vino ha il cervello più piccolo è un ragionamento che capite cioè dicendo gli scienziati con l'orologio hanno calcolato metti tutta una serie di parole che alludono a una razionalità sopraffina scienziato orologio calcolo per dire che cosa che siamo a 90 secondi dalla guerra mondiale ma cosa cosa si capite il concetto è la sfera della zingara se avessi detto le zingare riunite tra di loro guardando la sfera di cristallo hanno detto che tra 90 secondi c'è la guerra mondiale sarebbe la stessa base di fondamento logico ma voi mi direste vabbè ma ha zingarata e invece quella è una cosa degli scienziati emotività travestita da razionalità la guerra mondiale a pezzi ora che cosa ci dà di più in termini di analisi della situazione questa cosa se non buttare molta agitazione su immaginatevi di essere in sala parto qualcuno di voi c'è stato qualcuno di noi c'è stato guardare grazie a Dio molto meglio e c'è quella che deve respirare e tu dici addio è sempre lo stesso concetto e dici no devi mantenere la calma perché è una cosa difficile allora queste cose sono le cose che mi colpiscono perché mi colpiscono perché guardate cioè nella nostra cultura nazionale c'è una grandissima difficoltà ad assumersi di responsabilità assumersi di responsabilità non significa solo dire ho fatto questo effettivamente sono responsabile di quest'atto e nemmeno assumo le conseguenze ma significa ragionare in maniera razionale ragionare in maniera di cosa posso fare io rispetto a uno scenario che desidero si realizzi o per evitare uno scenario che desidero non si realizzi cosa posso fare io non le forze incontrollabili del destino ma cosa posso fare io noi abbiamo una grande difficoltà a modo c'è su questo perché c'è un problema secondo me l'istruzione pubblica anche quella privata il sistema di istruzione alla società funziona male su questo insegna male a ragionare insegna male il metodo del ragionamento gli italiani poi come sapete noi italiani siamo più propensi al melodramma che al dramma tutte queste immagini ci rendono più difficile andare in quella direzione quando io penso perché l'opinione pubblica è così ostile a sostenere questo sforzo bellico io credo perché semplicemente all'opinione pubblica lo viene spiegato quale è la posta in gioco e quindi se non gli spieghi qual è la posta in gioco io stesso ho sentito persone ben educate borghesi che fanno mestieri rispettabili e distruite che ti dicono no ma questa non è la mia guerra anche gli ucraini dovrebbero capire che non è il caso allora io dico proviamo a ragionare su questo tra vent'anni noi immaginiamo e desideriamo che esista ancora l'Unione Europea o no e tra vent'anni immaginiamo e desideriamo che esista ancora l'Italia la Francia la Germania in quanto paesi sovrani e non c'è contraddizione tra le due cose perché noi abbiamo una sovranità nazionale che esercitiamo in proprio e abbiamo una sovranità aggiuntiva che è la sovranità che esercitiamo dentro l'Unione in maniera condivisa la somma della la nostra sovranità nazionale oggi dentro l'Unione è più grande della sovranità nazionale che l'Italia la Francia la Germania avevano per conto loro prima non abbiamo delegato nessuna sovranità abbiamo costruito un pezzo di sovranità aggiuntiva che è una sovranità condivisa allora se noi pensiamo che questo è un bene e vorremmo che esistesse anche tra vent'anni ne consegue che dobbiamo lavorare affinché questo sia possibile e dato che la sovranità nazionale si è protetta e la costruzione dell'Unione Europea è stata possibile all'interno di un sistema politico internazionale che si è evoluto costruendo istituzioni e al riparo da principi che sono quelli dell'ordine internazionale liberale se questi principi vengono meno quelle istituzioni saranno più deboli e la prospettiva che questo prodotto istituzionale che l'Unione Europea e la sovranità nazionale democratica sia ancora tale indipendente capace di resistere alle pressioni esterne diminuisce è tutto qui e quindi è questa la posta in gioco in questo momento gli ucraniani stanno combattendo per la loro libertà per la loro sopravvivenza e volenti o nolenti per la protezione di un sistema dentro il quale noi possiamo esistere e continuare a essere liberi e continuare a fare questo senza che qualcuno possa dire la signora o il signore era in fondo non sono convinti portateli via cosa che succederebbe in Russia o in qualunque altro sistema concludo solo su questo auspicare un mondo pacifico non significa esorcizzare la guerra gli esorcismi e le scomuniche non hanno mai prodotto nessun avanzamento né della conoscenza né della libertà hanno prodotto roghi in cui sono stati bruciati eretici liberi pensatori e molto più spesso liberi pensatrici dal punto di vista statistico quindi la guerra noi sappiamo come la guerra è stata risolta nel rapporto tra le democrazie le democrazie non si fanno la guerra tra di loro la dimostrazione è che la Germania e la Francia non si fanno più la guerra da quando sono entrambe democrazie e sistemi aperti economici aperti e società aperte come noi con l'Austria discorrendo questo è stato l'evento gigantesco del secondo dopoguerra legato ai principi liberali scoperti nell'illuminismo le religioni monocratiche esistono da secoli o da millenni e ci siamo fatti le guerre sempre e comunque è la libertà è la democrazia liberale che ci ha portato a fidarci reciprocamente e non farci più la guerra e questa è la la cosa gigantesca poi la democrazia liberale può essere declinata in tante maniere ci mancherebbe altro ma chi dice che è l'avvento del messaggio di Tizio di Caio di Sempronio che scende dalle stelle insieme al Cus Cus la cosa sull'Egitto la manna sugli ebrei libero di credere a questo alla Vefana alla Renna del Laso Rosso tutto quello che volete ma quello che ha cambiato il rapporto tra guerra ed esseri umani è la democrazia è l'avvento della democrazia una cosa breve nell'esperienza fragile reversibile e che si è affermata in un pezzetto di mondo allora noi dobbiamo fare in modo che le condizioni che hanno reso possibile questo vengano mantenute ampliate in maniera tale da espandere tutto ciò perché la pace passa attraverso la democrazia e non il contrario questo ha una serie di questioni infinite dal punto di vista anche della riflessione teorica com'è possibile il multilateralismo con sistemi non democratici fieramente autocratici che neanche si fingono più democratici però capite bene che questo è un tema gigantesco che significa va benissimo che il resto del mondo e non solo l'Occidente acquisti rilevanza ma questo non può venire a scapito dei principi democratici che in questo momento l'Occidente incarna e tutela perché altrimenti l'anti-occidentalismo finisce per essere per fare il gioco dell'autoritarismo capite che non si può scappare da questo si può condannare nel libro che parlo il colonialismo l'imperialismo parlare del cattivo processo di decolonizzazione tutto vero ma detto ciò l'Occidente è l'unico posto in cui la democrazia è un po' più salda che in qualunque altro posto e quindi come si fa? sono queste le sfide allora pensare alla guerra significa anche come ci si comporta rispetto a chi minaccia questa via e non vuole accedere alla via della pacificazione attraverso la democrazia finché è una minaccia teorica possiamo discutere in tutti i modi ma quando è una minaccia concreta noi abbiamo provato a evitare questo come collegame economico si può leggere nella parte diciamo così di buona fede il rapporto economico con la Russia di questi 30 anni come il modo di legare la Russia al carro delle democrazie attraverso il mercato e l'invasione dell'Ucraina ci dimostra in maniera lampante che non ha funzionato cioè non funziona per evitare la guerra funziona per evitare la guerra se il capo dei russi non vuol farla ma se vuol farla non è possibile mentre nessuna democrazia potrebbe aggredire brutalmente un vicino di casa così solo perché il capo decide di farlo allora cosa si fa in questi casi questo significa avere un posto della guerra anche nel pensiero democratico oggi che significa come ti comporti con gli intolleranti e con gli intolleranti non puoi essere tollerante e se qualcuno sfugge se il concetto sembra astratto dirò con i bulli non c'è che la fermezza se lasci al bullo di bullizzare è impossibile qualunque convivenza tutti noi abbiamo avuto siete stati bambini avete avuto figli a scuola e sapete bene di cosa parlo allora sono per concludere qualche giorno fa è morto un grandissimo giocatore di pallone che si chiamava e si chiama anche se è morto Gianluca Vialli i giornali italiani sono stati pieni di peana nei confronti di Vialli meritati nel senso ci ha ricordato ci ha dimostrato come altri prima di lui tantissimi altri il coraggio nel momento in cui è più difficile essere coraggiosi quando la vita finisce e prima di morire se vi ricordate ha lasciato questa importante dichiarazione che non è una sua invenzione voglio dire per carità ma lui l'ha scelta l'ha fatta sua e l'ha detta pubblicamente con l'impatto che ha un testimonia come Vialli la vita è fatta al 10% di cose che ci succedono e al 90% di come reagisci da un lato è singolare che in un paese che pensa che la vita sia fatta al 90% di cose che ti succedono e al 10% di come tu reagisci e quindi più o meno siamo tutti uguali e in fondo quello che faccio se giusto o sbagliato sì magari era meglio farlo bene l'ho fatto male ma vale il 10% perché poi ci sono gli eventi che condizionano la mia vita in un paese che magicamente massimamente ragiona così ci sia poi sempre l'esaltazione per chi ti dice una cosa giusta ma che non è quella che tu fai rispetto al libro appunto il parallelo che potremmo fare è con D'Annunzio amato dall'Italietta liberale che però appunto si prendeva il gioco dei suoi seguaci e delle sue seguaci e dicendo ardisco non ordisco e tutti dicevano bravo il vate il poeta di un paese che ordisce ma non ardisce normalmente chiaramente pensa che saranno sempre gli altri a ordire il grande complotto però coraggio poi non c'è quasi mai allora da un lato questa riflessione e dall'altra però Viali ci richiama all'importanza della responsabilità e se ci pensate di fronte alla guerra la responsabilità è più semplice perché il 10% c'è già stato tutto cosa c'è di più evento della guerra ma siccome anche di fronte alla guerra la proporzione è la stessa il 10% quello che ti succede il 90% come reagisci anche di fronte alla guerra come di fronte a qualunque altro evento questo è il momento in cui ognuno di noi può fare la differenza innanzitutto per se stesso e per quelli per i propri figli e le proprie figlie e poi per tutti gli altri come noi reagiamo questo è quello che vorrei dirvi pensiamo a Viali pensiamo a cosa ci ha detto Viali pensiamo a Viali pensiamo alla guerra pensiamo al futuro vedete che non è così difficile seguire la linea non dirò del dovere ma dirò la linea del coraggio se volete un'espressione che mi atterrisca meno la linea della virtù che è quello che ci rende umani siamo umani perché possiamo scegliere il bene rispetto al male il coraggio rispetto alla bigliaccheria la virtù rispetto alla pigrizio al vizio grazie allora chi alza le mani per fare domande ne vedo una lì per arrendersi no bisogna alzanne due ne vedo una poi due tre sono lì sul fondo sono lì sul fondo io sul fondo vedo allora cominciamo dalla prima che era quello centro dietro a chi rivolgi la domanda come ti chiami mamma mia io sono un mostro allora buonasera angelo la domanda è un po' rivolta a tutti perché un po' avete trattato dati parlo di questa parola perché una 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 scrittrice giornalista Marta Ottaviani ha scritto tanto sulla disinformazione faccio una domanda provocatoria noi occidentali abbiamo creato le piattaforme dove noi esprimiamo quotidianamente il nostro pensiero le autarchie le dittature secondo voi hanno utilizzato queste piattaforme create da noi che non abbiamo saputo gestire per capire se era giusto puntare in quella determinata nazione o località per creare la giusta la disinformazione che loro vogliono o vorrebbero attingere a quella popolazione grazie si angelo dietro ce ne sono due prima quella più sulla sua destra cioè la mia sinistra vedete la mano alta quando si avvicina al microfono sennò non mi vedo la ragazza sì buonasera Lorenzo saluto tutti quanti posso dire a Oscar io c'ero e vorrei che notaste ho dovuto comprare un maglioncino di due taglie una taglia più perché era l'unico giallo da mettere in combinazione col colletto azzurro quindi a parte le cedie una domanda credo per Vittorio Emanuele Parsi il disfacimento a cui accennava anche Oscar Giannino il possibile verosimile disfacimento dello Stato russo che tipo di rischi effettivi stati canaglia nascenti potrebbe riservare per l'Occidente tutto qua grazie poi ecco la mano alzata lì dopo Angelo e Renzo come ti chiami? Sera Marco Marco mi collego alla domanda precedente e dico la Russia ha speso veramente due spicci per inquinare il nostro dibattito in una maniera impressionante perché noi non facciamo altrettanto? Grazie poi venendo più avanti Marco Marco due diciamo così volevo chiedere anche se per esempio domani Biden o Scholz si svegliano e mandano migliaia di carri armati e centinaia di aerei è abbastanza per impedire a Putin una volta che ha perso la guerra tra dieci anni di rinvadere l'Ucraina o a Xi Jinping di invadere Taiwan dovremmo fare di più potremmo farlo venendo avanti c'era uno in prima fila faccio io allora premesso sono un follower di Liberi Oltre e mi associo al ringraziamento enorme a tutti quelli che fanno la rassegna stampa io adesso faccio l'insegnante faccio la figura dell'informato grazie a voi perché tutte le mattine metto lì hai dimenticato di dirci come ti chiami Piero Piero fronte non è meno complicato sì esatto a breve cominciamo a replicare anche sull'Iran esatto ho visto seguito già stanno nascendo parecchie parti di quelle rassegne stampa che coinvolgono l'Iran vengo alla domanda però il ringraziamento mi sentivo di farlo perché era assolutamente doveroso al professor Parsi a proposito delle crepe che si cominciano a vedere in Russia alcune al potere si vedono agli ultimi piani degli edifici da dove cascano collaboratori non troppo graditi evidentemente al cab si fanno sei piani verso il basso ma io penso è possibile perché comunque anche le dittature le nostre dittature che abbiamo conosciuto Mussolini Hitler dovevano avere un consenso al proprio interno per poter agire ma è possibile che 180.000 bare cadaveri di soldati giovani russi che rientrano nelle famiglie non riescano a cambiare l'opinione pubblica in qualche modo russa possibile che questa montagna di persone ammazzate non riesca a far capire che strage stanno facendo dentro la Russia a questo mi riferisco dentro la Russia possibile che questa cosa non accada io mi ricordo cioè voglio dire noi in Italia abbiamo vissuto tanti cambiamenti di posizione nel 43-45 quando tanti italiani si resero conto della guerra inutile sbagliata ok capirono grazie purtroppo ai morti penso a un altro caso la guerra del Vietnam i soldati americani che tornano nelle bare o nelle buste di plastica non può succedere una cosa di questo genere in Russia mi pare che ah no c'è ancora uno io mi chiamo Francesco e ho avuto la fortuna di leggere il libro del professor Parsi perché grazie a Bianca ne ho avuto omaggio e sono d'accordo su quasi tutto e soprattutto sul fatto che quali che siano stati gli errori dell'Occidente della Nato dell'America dell'Europa il 24 febbraio è cambiato tutto perché quel tipo di reazione che è la reazione di invadere acquisire il territorio attraverso la guerra il che è quasi sempre avvenuto ma dal 1945 in poi perlomeno si sperava che non avvenisse credo sia avvenuto forse a parte la vicenda che lei richiama di off limbs di Israele e zone limitrofe solo il tentativo di Saddam della prima guerra del Golfo fu un tentativo di annettere territorio ecco quindi lì è cambiato tutto e la reazione deve essere ovviamente quella che lei propone che tutti condividiamo è stato anche detto è importante che una democrazia liberale ammetta i propri errori ecco l'unica cosa sulla quale non sono totalmente d'accordo con lei è sul fatto che la Nato comunque non ha fatto niente di male tra il 90 e dopo io ho letto qualche mese fa un saggio bellissimo che forse di un suo collaboratore perché Giorgio Cella è alla mia statale di Milano e lei lo cita nella bibliografia c'è questa storia della broken promise nel 90 della vicenda dei messaggi che per esempio Bush padre mandava a mettere mandi e diceva levati dalla testa che qualcosa posso sostituire la Nato anche dopo la fine del monotropo di Berlino l'errore clamoroso di Clinton e degli altri per cui è stato qualsiasi anno di poi ovviamente sono portati via l'arsenale atomico all'Ucraina se ce l'avessero avuto non sarebbe successo niente e poi comunque il fatto che ancora Bush padre dice non esiste che si possa fare qualcosa di diverso ecco se l'occidente avesse fatto qualcosa di diverso uno sforzo magari formalmente diverso una terza alleanza federata alla Nato qualcosa che salvasse lei dice anche la percezione conta ecco è stato un cavallo di battaglia che Putin ha potuto cavalcare anche questo della Nato dopodiché le faccio la domanda alle cento pistole professore cioè con i leopardi che speriamo vengano liberati con gli Abrams e con quant'altro speriamo venga mandato ce la farà l'Ucraina a riprendersi i territori ci possiamo sperare? Allora faccio la sintesi per chi risponde perché abbiamo Angelo che ha chiesto dati e piattaforme ma abbiamo fatto abbastanza per vigilare le nostre piattaforme sono libere però sentiamo cosa dicono gli altri perché altrimenti le abbiamo date le autocrazie poi Renzo e poi dopo Piero intervengono sui temi sulle inclinature i segnali di dispacimento del controllo totale di Putin e Piero ci aggiunge è possibile mai che tutti questi morti non tornano dietro e non hanno l'effetto delle barri delle vietnam non hanno l'effetto piacerebbe dirti ma sì comunque questa è la cosa poi abbiamo Marco e Marco 2 Marco ci chiede ma perché non facciamo i due spicci aspetto così perché non facciamo anche noi e invece Renzo 2 Marco 2 ci chiede ma basta questa roba per non convincere la Cina sul Taiwan e poi Francesco lo avete sentito gli errori comunque il passaggio Bush 90 è il segnale non mantenuto con i russi che ha consentito a Putin di dire ma questi ci hanno detto una cosa poi hanno fatto l'opposto allora c'è il microfono intanto che meglio i dati di disinformazione di piattaforme di utilizzo eccetera le democrazie sono sistemi aperti le nostre società sono aperte quindi il costo l'altro lato della medaglia della libertà e che i malintenzionati possono usarla anche per compiere azioni ostili non c'è la polizia di notte che ti controlla i documenti ogni momento che ti fanno per strada non c'è il coprifuoco poi anche sarà salito ma è inevitabile in qualche modo però questo ti chiama anche in ballo la questione dell'utilizzo scientifico della disinformazione da parte di Putin cioè noi dimentichiamo che la Russia di Putin è un sistema orwelliano cioè le capacità dei sistemi di dispotismi contemporanei la Cina e la Russia di controllare l'informazione capillarmente di prendere misure molto sartoriali anche nella repressione e quant'altro e descrive molto bene il sistema di Orwell molto più che ai tempi di Stalin cioè Stalin non aveva la capacità di entrare in qualunque conversazione privata per questioni tecniche per così dire Putin non avrà l'apparato ideologico di Stalin ma ha un apparato tecnico molto 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 più intenso e nella lotta tra verità e bugia dobbiamo sempre pensare che sì la verità nel lungo periodo cioè la verità è vera perché ha un rapporto effettivo con la realtà ma nello sconto nell'immediato la menzogna spesso prevale sulla verità perché è più seducente perché se io devo raccontarti una cosa come te la devo raccontare com'è se tu devi raccontarmi una cosa per convincermi potendola modificare dicendomi che che posso dire io puoi mangiare un panetto di burro e non ti succederà niente non ingrasserai non ti verrà un fegato così non avrai il colesterolo tranquillo vai te lo posso dire in maniera molto buona e molto bene molto bella e ti posso convincere perché tu hai quello che vuoi per cui non è così semplice dal punto di vista del futuro della RIS della Russia sì le crepe ci sono probabilmente però dovete pensare che intanto come Marco II Piero ha detto parlando del parallelo con l'Italia io ho sempre detto fin dall'inizio di questa guerra che questa guerra sarebbe stata per Putin come la guerra di Grecia per Mussolini la campagna di Grecia è del 41 il regime cade nel 43 ma il 41 segna proprio l'inizio in cui gli italiani non credono più a Mussolini a tutta la retorica bellicista perché qui non era quella campagna d'Africa contro la grande potenza inglese la frotta mediterranea britannica erano i greci a cui dovevamo spezzare le reni che mandavano indietro gli alpini morti sulle montagne d'Albaria lì è stato l'inizio del crollo della fiducia nei confronti di Mussolini ci ha messo tre anni due anni perché questo poi diventasse una forma di diffidenza che non è stata comunque in grado di fare cadere il regime il regime è caduto per un colpo di stato di palazzo ma quando è caduto tutto il popolo era pronto a tutto la gran parte del popolo era pronto a dire bene così il 25 luglio allora questo secondo me è quello che possiamo immaginarci come scenario io penso che il regime di Putin non sia un regime così solido penso che piano 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 da un lato l'opinione pubblica dall'altro lato quella cricca che sta intorno a Putin che si vede danneggiata fortemente da questa guerra evidenziale che Putin ha scatenato gli farà pagare il conto perché penso che questo regime funzioni per capire come funziona la Russia di Putin devi leggere il padrino finché il padrino assicura le quote a tutti quelli della cupola va tutto bene quando il padrino non è più in grado di assicurare il benessere non ai picciotti ma agli altri capocosca i capocosca iniziano a dire ma siamo sicuri che ecco nel caso del regime di Putin che è un regime politico è difficile immaginare ma se cade Putin verrà uno peggio io non credo perché se cade Putin cadono tutti quelli che hanno sostenuto questa avventura perché Putin se cade cade per quello e quindi è poco credibile che chi l'aveva sostenuto dicendo si vediamo di Kain arresti quando è caduto l'impero zarista non c'è stato c'è stato per un giorno il governo del Granduca dopo c'è stato il cambiamento radicale perché se è una sconfitta che ti fa cadere tutti quelli coinvolti nella sconfitta sono toccati dal fallimento sul è abbastanza bloccare i carri guardate i carri servono per consentire all'Ucraina di resistere all'offensiva russa e di poter tornare sul piede avanzante cioè io non posso dire che con questi carri l'Ucraina vincerà ma senza questi carri l'Ucraina perderà e questo è inaccettabile secondo me è inaccettabile perderà vuol dire ha poche possibilità di respirerli poi penso che gli ucraini combatteranno fino in fondo e a quel punto sì che si realizza lo scenario più preoccupante perché se l'Ucraina dovesse essere travolta a quel punto per la NATO si porrebbe il problema non tanto di combattere contro i russi ma se non costruire una un'area di santuario di 300 400 500 km dal confine polacco in territorio ucraino per dare protezione a tutti gli ucraini che scappassero dall'invasione russa quello potrebbe essere il rischio se l'Ucraina crolla il cinesi o i russi impareranno la lezione ma anche se rifermeremo cosa impedirà loro di riprovarci ma intanto il fatto che l'operazione è stata costosa e efficace se Putin viene bloccato la lezione mandata è con tutta la forza che ci metti per quanto può essere rispettato noi ti bloccheremo non te lo faremo fare non ti daremo mai la vittoria lo imparerà Putin il successore di Putin non impareranno i cinesi quest'estate quando c'era il momento di maggiore tensione con la Cina su Taiwan il messaggio mandato da americani australiani francesi inglesi e anche tedeschi è stato mandare le navi militari nel mar della Cina a navigare intorno a Taiwan per dirgli guardate non è cosa e anche lì vi invito a pensare a un fatto quando parliamo delle istituzioni che cosa ha consentito fino adesso di impedire alla Cina di attaccare Taiwan certo la protezione militare ma anche un punto fondamentale che noi non abbiamo mai messo in discussione il diritto della Cina a riunificarsi con Taiwan non abbiamo mai messo in discussione il fatto che ci sia una Cina sola non abbiamo mai messo in discussione il fatto che Taiwan non può diventare Repubblica di Taiwan perché sarebbe questo provocherebbe un caso sbelli questo fatto semplice abbiamo consentito che Taiwan che non esiste a livello di sistema politico internazionale però potesse esistere tantissimo a livello di sistema economico internazionale un'altra forma di garanzia diversa e abbiamo detto ai cinesi una cosa molto semplice tu puoi riunificarti con Taiwan basta che i taiwanesi lo vogliano cioè non è un problema non puoi usare la forza questo non è ipocrisia doppiezza questa è situazione cioè un diritto che noi riconosciamo essere un diritto dal punto di vista storico politico un diritto politico mi spiego nessuno mette in discussione questa tua ambizione politica ma non puoi farla con la guerra perché rispetto alla tua rispettabile ambizione politica c'è una cosa più importante che è il non uso della forza e quando si contempla tra due principi il principio della riunificazione politica della Cina nessuno lo mette in discussione ma è più importante il principio di non usare la violenza per farlo semplice se non c'è questo quello lo puoi fare allora questo è quello che noi dobbiamo continuare a costruire questo è il punto perché è questo che allontana i conflitti ed è proprio il lavoro continuo delle istituzioni per quanto riguarda invece Francesco ce l'ho citato perché no no il mio allievo lui è uno storico dell'Ucraina ho citato il suo libro come ho citato altri libri perché in quel momento era il libro diciamo appena uscito più ampio sulla ricostruzione della lunga storia dell'Ucraina non in tutto condivido quello che dice eccella ma non è che devo citare solo quelli che non condivido ed è un lavoro onesto comunque dal punto di vista intellettuale e accademico però la questione del broken promise è una colossale secondo me balla sì cioè nel senso nel 90 le chiacchiere che si fanno nei vertici non sono trattati il trattato violato qui è il trattato del 94 cioè quello è un trattato violato è quello che porterà l'Ucraina inevitabilmente nel futuro a essere membro della Nato che l'Ucraina vinca che l'Ucraina perda e rimanga un pezzo rinuncia per debba rinunciare del territorio quello che sia il futuro dell'Ucraina è nella Nato perché solo in qualunque modo solo un'Ucraina nella Nato potrà sentirsi garantita rispetto a un'invasione russa perché altrimenti si ripeterà questo allora su questo bisogna essere molto attenti lei ha detto non si è fatto niente per cercare di integrare la Russia nella Nato no ci fu partnership for peace che fu un tentativo di proprio costruire misure di confidenza reciproca e di accompagnamento prima dell'Unione Sovietica poi della Russia dopo diciamo la fase di caos tutto questo è stato rotto dai russi ci sono stati i russi a voler uscire da partnership for peace proprio con Putin e infine cosa avremmo potuto fare di più io penso che di più avremmo potuto fare una cosa essere avere misure economiche più importanti per la Russia negli anni per l'ex Unione Sovietica negli anni 90 cioè negli anni 90 avremmo potuto cercare di dare una mano più cooperativa per accompagnare l'Unione Sovietica verso quella transizione che Gorbaccio stava tentando di fare forse impossibile da realizzare ma di portare quella prigione dei popoli che era l'Unione Sovietica a essere una federazione di popoli che volessero stare insieme all'interno di una Unione Sovietica trasformata in maniera democratica tecnicamente diciamo così fattualmente questo fu impedito dal colpo di stato dei conservatori comunisti nell'agosto del 91 che arrestarono Gorbaccio e fecero crollare l'Unione Sovietica però forse noi se nei quei due anni precedenti fossimo stati più generosi più lungimiranti forse l'esito avrebbe potuto essere diverso però insomma direi che parlare di allargamento della Nato come motivo diciamo così che conferisse che minacciasse la sicurezza russa secondo me non è credibile anche perché la Russia non è mai stata così sicura come negli anni dopo la crollo dell'Unione Sovietica durante la guerra fredda né noi né i sovietici eravamo sicuri dopo la guerra fredda sia noi che i sovietici siamo stati che i russi siamo stati reciprocamente sicuri oggi dopo l'invasione dell'Ucraina siamo tornati nuovamente in una situazione di reciproca totale insicurezza grazie c'era qui io volevo rispondere su un punto che riguarda la domanda sulle piattaforme sì ti ringrazio perché è un tema che credo sia molto pertinente diciamo che secondo me noi a livello soprattutto di decisori ma anche a livello culturale siamo arrivati molto impreparati e per noi intendo non solo l'Italia ma a livello di Unione Europea siamo arrivati molto impreparati rispetto quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze di questo cambio direi radicale dei modelli di partecipazione al dibattito pubblico e all'informazione e all'interazione considerate che quando i provider le grandi piattaforme avevano già un sistema di una forza straordinaria noi non avevamo neanche una legislazione a livello europeo perché la prima timida legislazione europea in materia di responsabilità per la gestione dei dati sul web del 2003 e da allora si è fatto molta fatica e forse è ancora un tema di nicchia quello del costituzionalismo digitale che invece non è perché ormai si è visto che il consenso è influenzato ormai da dieci anni e sono credo sicuro di fare un'approssimazione per difetto attraverso le piattaforme e dunque i social quindi non c'è solo un problema di controllo dell'utilizzo che dall'esterno può essere fatto dato e quindi di condizionamento del nostro opinione ma c'è anche un grosso problema di manipolazione dall'interno e non è solo un problema di legislazione perché si può arrivare a delle forme di legislazione che poi possono ridursi però al controllo delle modalità di conservazione di gestione dei dati anche un tema di educazione un tema culturale cioè ancora oggi io non vedo un approccio rispetto alla vita che tutti noi abbiamo sul web un approccio aderente realmente ribadisco culturale dunque è educativo alle problematiche anche in termini di disinformazione che possono arrivare stiamo tanto parlando ora che questo PNRR dovrebbe diventare realmente un modello concreto di transizione digitale ma la transizione digitale non è solo la semplificazione della giustizia e della pubblica amministrazione attraverso il maggiore utilizzo del web la vera transizione digitale è capire che comunque quello è un esercizio di attività pericolosa dove ci sono molti fattori di rischio e dove ogni volta in cui ci colleghiamo a internet diamo un pochino della nostra anima non solo senza avere niente in cambio realmente ma senza neanche più avere nessun controllo e nessuna signoria di quella che è la nostra identità il che vuol dire che la manipolazione che è alla base del consenso e che in una democrazia è necessaria e che nelle dittature è altrettanto necessaria al di là delle votazioni può essere manipolato con molta facilità quindi fatto bene a sollevare questo tema grazie Guido Costantino e poi c'è un appello finale anche perché io mi hanno detto 20 e 30 dove finire però non ho fatto caso che l'ora era terribile vai Costa sarò velocissimo allora sì parto anch'io dagli attacchi cyber Marta ci ha scritto un libro che si chiama Brigate Russe che è molto interessante e un'altra di quelle che avevano visto prima quello che succedeva sul perché si fa sul perché si fa e sul perché non lo facciamo noi dove noi per noi intendo democrazie occidentali beh io sono contento che non lo facciamo anche se qualche pacifista anche in questo caso che spesso va in tv magari non è d'accordo secondo me fa parte e questo è una questa è una convinzione che ho maturato dopo che c'è stato l'attacco quello fisico quello con i carri armati e con le truppe boots on the ground fa parte di quella strategia del come dire del test faccio dei test per vedere qual è la capacità la volontà la determinazione nella reazione a questi test ricordiamoci anche un'altra cosa per molto tempo libro si parla di guerra e della necessità di accettare la guerra come possibile risposta a determinate situazioni esterne il rifiuto della guerra che ha dei costi che non sono soltanto i costi delle sanzioni da questo o dell'altra parte ma dei costi proprio correnti perché poi devi pagare le truppe devi pagare la logistica eccetera 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 il rifiuto della guerra dicevo e quindi il relegare la guerra come estrema razio dove l'estrema razio è diversa per me da quella che potrebbe essere quindi il livello è diverso per me da quello che potrebbe essere per qualcun altro è comunque una cosa che ci sta così come noi siamo abituati a vedere e abbiamo visto le guerre occidentali o comunque gli interventi armati occidentali fatti con droni piuttosto che con le forze aeree invece che con i carri armati e con le e con le fanterie ecco quella cosa nella fattispecie degli attacchi non soltanto della della Russia non dei tentativi di interferenza non soltanto della Russia c'è stato qualcuno pochi mesi fa violentissimo attacco cibernetico da parte dell'Iran alla all'Albania quello lì è un modo per minimizzare i costi questo racconta racconta Marta per minimizzare i costi massimizzando il profitto dopodiché c'è qualcuno che appunto raggiunge la linea e ad un certo punto oltrepassa quella linea e invia le truppe questa cosa di testare questo lo voglio sottolineare perché si parla o si sente molto troppo spesso parlare di minaccia nucleare non voglio negare che la minaccia nucleare ci sia però la ritengo estremamente remota in realtà non l'abbiamo mai considerata quando abbiamo fatto analisi di quel tipo su quel fronte non abbiamo mai considerato le varie minacce che arrivavano da Putin da Avrov eccetera eccetera delle minacce concrete anche quelle sono tentativi di testare qual è la nostra capacità di reazione cioè dove siamo in grado di portare la nostra linea rossa la storia degli ultimi anni dicevo prima nell'altro intervento che noi da anni insomma abbiamo letto il comportamento di Putin e della oligarchia russa come un comportamento criminale questa strategia se ci pensate non è nuova e sotto certi versi ha anche funzionato cioè quello che ha visto Putin quello che ha visto la Russia quando provava a leggere le dinamiche europee penso soprattutto a quelle dell'Unione Europea ma non soltanto anche quelle degli Stati Uniti io sono convinto per esempio che l'uscita così precipitosa degli Stati Uniti dall'Afghanistan sia stato un segnale che forse i tempi erano maturi cioè che non avremmo reagito perché ci stavamo di fatto gli Stati Uniti in modo particolare si stavano di fatto ritirando da un da un quadrante complicato allora questa cosa dicevo lui l'ha l'attestata le interferenze russe su UK su Italia su Germania hanno prodotto il risultato Brexit partiti populisti AFPD non lo so però sicuramente la Brexit la crescita dei partiti populisti la crescita dell'FT ha dato a Putin il segnale che il fronte occidentale non sarebbe stato così unito di fronte ad un attacco per chiudere sono d'accordo con quanto detto da chi mi ha preceduto io non so quando finirà la guerra a quali condizioni quello che so senza nessun dubbio è che se non procediamo con l'invio di aiuti militari la sorta dell'Ucraina è scritta so anche prima poi mi è venuto in mente che Oscar mi ha fatto una domanda nell'altro intervento relativo alle sanzioni so anche che la capacità tecnologica oltre che quella economica della Russia quella reale non è ben compresa ed è una capacità ridotta al minimo la Russia non ha tecnologia non ha capacità di copiare neanche di creare di copiare le nostre tecnologie le sanzioni e la strategia europea di fare sanzioni incrementali invece che tutte quante insieme probabilmente erano come dire l'illusione che bastassero bastasse il primo round di sanzioni se non il primo il secondo e così via perché la Russia ha scarsa capacità di generare di utilizzare tecnologia paradossalmente dovesse durare molto la guerra certo l'Ucraina ne avrà delle conseguenze pesanti però l'Ucraina sappiamo che verrà aiutata nella ricostruzione la Russia no sotto questo aspetto la sorte della Russia di questa Russia di Putin secondo me è ancora più segnata isolata senza tecnologia senza possibilità di vendere l'unica cosa che hanno fondamentalmente che sono le risorse naturali perché anche lì mi fa piacere che Vittorio l'abbia sottolineato nel suo libro lo swift delle forniture non lo si fa mi pare che tu usi l'espressione girando un rubinetto rendiamoci conto di questo perché quando sentiamo personaggi che in tv ci dicono che il petrolio russo il gas russo ha preso la via allegramente e copiosamente della Cina o dell'India le cose non stanno così allora quindi una guerra di logoramento si fa male molto all'Ucraina ma l'Ucraina può contare ripeto sulla forza economica dell'Occidente che la sta sostenendo e sulla forza economica dell'Occidente che la sosterrà quando si dovrà ricostruire la Russia no la Russia deve ridisegnare e l'ha voluto lei deve ridisegnare i suoi rapporti e non sono rapporti con stati che così facilmente hanno possibilità di intervenire economicamente per la ricostruzione allora in conclusione io volevo ringraziare innanzitutto voi tutti per la determinazione feroce che avete dimostrato resistendo a ore qua dentro grazie perché evidentemente gli ospiti loro tre e il tema mi toccava no io non conto niente e vi voglio dire una cosa io credo profondamente e sono per questo anche molto grato ai tre ospiti al fatto che dobbiamo spiega io ormai sono un'età parecchio avanzata non sto molto bene quindi ho molto il fatto dei figli ho già beccato qualcuno che ha scritto ma come ha quattro figli dice che ha quattro figli sappiamo che ne ha due inventa no perché sono due mie di sangue due della mia compagna viviamo insieme un'unica grande famiglia prima che qualcuno pensi allora vi spiego perché credo che sia importante io per esempio vedete l'importanza delle istituzioni lui ha citato l'atto di Helsinki io avevo la fortuna di essere iscritto a un'organizzazione che credevo ciecamente 13 anni credevo a Ungolamato è stato un po' ero pazzo che però si iscrisse come osservatrice del rispetto dell'atto di Helsinki con cui avevamo garantito l'Unione Sovietica il confine di sicurezza del muro e in cambio loro avevano dovuto però riconoscere una serie di diritti elementari che poi naturalmente non rispettavano però c'era il ruolo riconosciuto da organizzazioni osservatrici di andare lì a rompere i coglioni naturalmente potevi fare poco la mia organizzazione giovanile si iscrisse come osservatore questo da quando avevo 15 anni quindi ancora epoca sovietica vera io ho potuto girare i paesi dell'est ed è l'esperienza che mi ha fatto capire infinite cose mi ha fatto amare gli ungheresi mi ha fatto impazzire per i polacchi che andavano ai concerti con gli spartiti e in Italia non ne vedevo nemmeno però mi ha fatto capire che cos'era raccontare che cosa ho visto sia i miei due figli piccoli lo capiscono a me ma i miei due figli grandi 18-20 è una cosa che gli apre le orecchie perché sono i racconti veri della vita reale che cos'era la metropolitana di Mosca bellissima ma con milioni di utenti dei quali nessuno osava parlare all'altro tutti a leggere leggiamo come pazzo molto più di noi queste cose mi hanno segnato e poi invece ai più grandi ho detto perché dovete leggere questo libro questa è la frase che ho scelto io in linea con l'anedotica perché i ragazzi di oggi guardate è dura chi non è solo studente ma insomma io ho un diciottenne che è difficile allora gli ho letto questa frase qua perché c'è una cosa che la fiera resistenza del popolo ucraino ci sta insegnando beh la cosa è che non bisogna arredersi mai che la difesa della propria libertà è il presupposto per il perseguimento di ogni sogno ai ragazzi devo dire così c'è scritto così di ogni speranza di ogni scopo per cui valga la pena vivere ecco perché ha citato Vialli perché la vita proprio perché è breve si misura sull'intensità e sulla grandiosità delle nostre speranze grazie Vittorio grazie a tutti voi grazie a Liberi Oltre grazie a Guido e a Italia del Diritto grazie a Bianca e a tutti quelli che hanno organizzato grazie a tutti